Arriviamo! Benvenuta Ellaria Capua! Buonasera! Buonasera, virologa, dirige il Centro di Ricerca di Eccellenza dell'Università della Florida, l'abbiamo detto più volte, l'abbiamo un po' scelta come bussola in questa brutta pandemia. Oggi tra l'altro è uscito in libreria il suo libro Il viaggio segreto dei virus per De Agostini e ne parleremo, utilizzeremo un po' il suo percorso anche per aiutarci. Ma professoressa, iniziamo cartello 10, i dati del giorno e della settimana. Allora, i morti questa settimana diminuiscono per fortuna, ma cominciamo a vedere una ripresa dei ricoverati in terapia intensiva e dei contagi. Che segnale è? È un segnale di rivivacizzazione della circolazione virale, molto, diciamo, probabilmente legato, anzi sicuramente legato, all'attiva circolazione di varianti che sono più contagiose. Ecco, le varianti è il tema un po' di oggi, addirittura una riunione del Governo per affrontare il tema, non solo le varianti ma anche gli assembramenti. Guardate, pure se è l'anniversario, il triste anniversario di un anno dalla pandemia, dall'inizio della pandemia, il bilancio di vite fa impressione. Vi facciamo vedere questo cartello che abbiamo preparato. Quanto incide il Covid sulla mortalità in Italia? Allora, lo scorso anno ci sono stati 90.000 deceduti in più sulla media degli ultimi 5 anni, un aumento di 240 persone al giorno e quindi presumibilmente dovute al Covid. Come, professoressa, se ci fosse un incidente aereo al giorno? Ecco, purtroppo sì. A questo credo che noi non possiamo e non dobbiamo abituarci. Purtroppo, fino a quando noi non avremo la popolazione più fragile, vaccinata e quindi immune, noi continueremo ad avere questi numeri che sono veramente dei numeri da brivido. E viene da pensare, prenderesti un aereo se ci avessi questa terribile coincidenza. Invece gli assembramenti ci sono e discuteremo di tutto, ma discutiamo anche, ci faccia chiaro il quadro, ma il Covid è una malattia molto contagiosa, poco contagiosa. Com'è? Allora, il Covid è una infezione che si trasmette non quanto si trasmettono altre infezioni. Se prendiamo ad esempio la varicella o ancora di più il morbillo, vediamo che in una situazione analoga a quella in cui siamo oggi per il Covid, se noi prendessimo un virus del morbillo e lo mettessimo in una popolazione completamente vergine, ecco che avremmo che da ogni persona si contagiano addirittura 15 persone. La varicella, allo stesso modo, è più contagiosa rispetto al Covid, quindi sostanzialmente dobbiamo anche ringraziare Madre Natura che non ci ha mandato un virus molto più contagioso. Ma Madre Natura ovviamente dà gli strumenti al virus di difendersi rispetto a tutte le misure di controllo che noi stiamo mettendo in atto. E uno di questi strumenti è quello che permette proprio al virus di adattarsi a una situazione nella quale lui adesso è in guerra, perché c'ha tutti contro, per fortuna. E allora che cosa fa? Cerca di mascherarsi e cerca di essere più aggressivo e di correre di più. E allora noi cosa possiamo fare, professoressa? Torniamo a quello che abbiamo imparato. Non sarà il caso di richiuderci in casa, magari anche preventivamente? Un lockdown preventivo è una teoria che inizia a circolare. Ma allora io credo che di lockdown assoluti ne abbiamo fatti forse troppi. Adesso noi abbiamo gli strumenti per mappare l'infezione. E a questo proposito vorrei così ricordare che l'Italia è molto indietro con il sequenziamento dei virus e quindi noi non abbiamo una fotografia chiara di quello che sta avvenendo in Italia. Abbiamo delle informazioni che arrivano da diverse zone. Bisogna accelerare il sequenziamento e bisogna accelerare la messa in condivisione di queste informazioni. Perché solo conoscendo il nemico, e parliamo di centinaia, di migliaia di sequenze, quindi sono studi anche complicati che richiedono tempo, richiedono attrezzature, richiedono investimenti. Ecco, richiedono investimenti. Ma assolutamente non possiamo far finta che il virus rimarrà sempre uguale. Perché questo ce lo insegna anche la storia dei virus. Quindi sappiamo che i virus si trasformano nel tempo. E quanto tempo abbiamo per vaccinarci allora, professoressa? Perché se non dobbiamo chiuderci in casa, allora forse possiamo renderci immuni. Ognuno forse conosce qualcuno che è stato vaccinato, non inizia a diffondersi. Ma siamo in tempo, siamo in ritardo, stiamo accelerando. Allora, se si vede il numero di vaccinazioni per 100 abitanti, dovrebbe esserci un cartello. A livello mondiale vediamo che la situazione è molto diversa. Abbiamo delle zone, delle regioni intere dove il numero di persone vaccinate è molto basso e delle zone dove invece il numero è maggiore. Certo è che rispetto alla popolazione del pianeta Terra ne abbiamo ancora molta di strada da fare. Quello che stiamo vedendo è che stiamo cominciando a vedere questi vaccini come si comportano quando sono messi in gioco. Perché non ci dobbiamo dimenticare che questi vaccini sono stati messi a punto in tempi molto rapidi. C'è stata una gara a produrne in maniera significativa. E certo, noi di fronte a un virus che non conoscevamo, era un po' difficile fare delle previsioni su come questi vaccini avrebbero poi funzionato una volta messi in campo. E stiamo vedendo dei risultati ottimi. Stiamo vedendo che lì dove, anche lì dove si è fatta una dose sola, il numero dei ricoveri diminuisce in maniera molto significativa. Stiamo vivendo un esperimento e dobbiamo mantenere sempre un occhio all'esperienza che stanno facendo altri paesi. Perché è proprio grazie al lavoro di squadra, al gioco di squadra, che noi come Europa possiamo venire a capo di questa situazione veramente drammatica imparando gli uni dagli altri. E c'è qualcuno che un po' ci ha stupito, perché Boris Johnson, che aveva iniziato malissimo, si è dovuto confrontare con delle cifre di decessi veramente spaventose, a un certo punto ha avuto uno scatto come un giocatore di poker. Dice, beh, sto perdendo, mi gioco tutto su un determinato vaccino, mi gioco tutto sull'accelerazione, mi gioco tutto sul fare un'unica dose. E sono arrivati a 15 milioni di persone vaccinate. Dobbiamo imparare anche dall'Inghilterra. Allora, come ha detto lei, dottor Flori, sì, Boris Johnson la prima volta ha rischiato e gli è andata male, perché comunque l'Inghilterra è ancora il paese che ha il maggior numero di vittime. E' un paese che, diciamo, ha sofferto parecchio. Adesso, diciamo, c'è stata questa opportunità di avere innanzitutto vaccino disponibile e una rete di vaccinazione, di distribuzione del vaccino efficiente, perché mia suocera scozzese è stata vaccinata, ha fatto la sua vaccinazione ed è ancora in lockdown. Comunque hanno fatto questa campagna di vaccinazione dicendo proviamo a dare una base di vaccinazione, proviamo a dare una base di protezione a almeno le categorie più fragili per arginare questa, diciamo, diffusione rapidissima con impennata dei, diciamo, dei tassi di letalità appunto perché il virus circolava in maniera molto molto attiva. Allora, il carattere dei singoli governanti, delle culture dei singoli paesi diventano determinanti nell'affrontare una minaccia che riguarda tutto il pianeta. Buonasera, li avete già visti, Romano Prodi, professore, economista, già presidente del Consiglio, presidente della Commissione Europea e buonasera a Massimo Giannini, il direttore della stampa. Professor Prodi, arriva Mario Draghi e sul carattere, sulla qualità della singola persona molti italiani e forse molta classe politica fa investimento. scopriremo che quella della vaccinazione ora ne parleremo bene, la sua campagna principe, che impressione le hanno fatti i primi giorni di Mario Draghi? Quando si era la BCE e si poteva decidere con facilità forse più che la guida del governo italiano o no? Che impressione le fa Mario Draghi? Ma aspettiamo, lasciamogli un pochino di tempo che deve pure sedersi nella poltrona, nella seggiola, anzi, prima di prendere decisioni. Io credo che debba fare in fretta, in questo colgo quello che lei ha detto, però sui vaccini non è che possa farci molto. Qui avete parlato giustamente del fatto che l'arrivo del vaccino cambia la struttura economica e politica di un paese. Ma Draghi cosa fa? Li fabbrica. Il problema non è mica... Noi abbiamo discusso in questi giorni in Italia sul problema di come fare le iniezioni. Ma questa è una roba da ridere, voglio dire, qui a Bologna la si fa la fiera, la si fa dappertutto, insomma. Il problema è che non arrivano. Quest'anno in tutto, in tutto il mondo, produrremo due miliardi di vaccini. Due miliardi, se va bene. Noi dobbiamo fare dieci miliardi di iniezioni. Allora, finché non le abbiamo fatte, noi siamo al sicuro. Allora il problema non è quello adesso di scoprire il vaccino, perché l'hanno scoperto, è che questo venga disponibile per la fabbricazione nella più ampia scala possibile. Questo è il problema. È il problema vero. Professore, ma in un'emergenza come quella che stiamo vivendo non si può ragionare come in tempi di guerra? Si dice adesso fatelo questo vaccino, ristrutturatevi in fretta, trovate le aziende e i macchinari necessari e ognuno se lo fabbrica. Lo facciamo, come dire, tra virgolette, in franchising. Ci dite come si fa e ce lo facciamo da soli. Si può, professore? Secondo me si dovrebbe, però attenzione, che ci vuole qualche mese adesso per attrezzare uno stabilimento. Però siccome il problema è di lungo periodo, noi dovremmo subito agire nella direzione di renderlo fruibile a tutti i paesi, a tutti coloro che rispettano le norme igieniche, le norme scientifiche per poterlo fare. Invece noi ci siamo bloccati su questo. E' un problema gravissimo questo. Il collo di bottiglia. Massimo Giannini. E poi c'è la realtà, no? Una realtà in cui Mario Draghi inizia in una settimana a avere a che fare con i problemi della politica. Cartello 13. Noi vogliamo alte, ma guardiamo anche vogliamo un po' bassi. Ci sono ancora i posti da sottosegretario da decidere. 42. Siccome i 797 voti di fiducia a Draghi vanno divisi poi per 42 posti, più o meno ci sono, se uno ha 19 voti si merita una poltrona al sottosegretario. Allora, tra l'alto e il basso, tra i grandi scenari, le grandi qualità, le grandi capacità e la quotidianità della politica, come se la sta accadendo Mario Draghi? Ma viene sempre in mente quella bella frase di un grande scrittore Fernando Pessoa che diceva che l'uomo è due abissi, un pozzo che guarda il cielo. Ecco, Mario Draghi mi ricorda molto quell'uomo lì perché da un lato ha il cielo e cioè tutto quello che lui rappresenta, la credibilità, il patrimonio di prestigio che si porta dietro in Italia e a livello internazionale che è senz'altro una buona garanzia per la riuscita del suo governo. Dall'altro lato però poi c'è il pozzo e il pozzo lo dico con tutto il rispetto ci mancherebbe non voglio vellicare sentimenti antipolitici però il pozzo è la politica il pozzo sono i partiti il pozzo è quell'insieme quel complesso istituzionale ministeriale che rende la vita difficile di tutti i governi intendiamoci non solo di questi mi piace ricordare in questo momento che gli ultimi due governi conte sia quello giallo verde che quello giallo rosso hanno lasciato in eredità al nuovo governo 576 decreti attuativi da portare avanti di questo stiamo parlando quindi effettivamente lo scarto tra la grande speranza che Draghi rappresenta perché oggettivamente la rappresenta e quello che materialmente potrà fare perché non ha la bacchetta magica rischia di essere molto ampio in una situazione drammatica l'avete detto oggi Le Monde apre il suo giornale con un'inchiesta che è anche un grande sondaggio su scala internazionale europea sulla stanchezza delle opinioni pubbliche nei confronti dei governi proprio a partire dal virus e quello sarà il primo test insieme a quello ci sarà ovviamente il recovery plan e Draghi come diceva il professor Prodi un attimo fa anche su quello non può fare miracoli lì l'errore l'ha compiuto l'Europa dobbiamo dirlo Draghi dovrà gestire al meglio la campagna vaccinale ma sapendo che i vaccini a disposizione non sono tanti e avendo di fronte i partiti che continuano ha fatto Salvini a chiedere aprite 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 e quindi siamo le solite questa domanda prima per Giannini e poi per il professor Prodi è che esiste anche un altro anello un altro livello di confronto con la difficoltà il confronto con ieri alla manifestazione di i ristoratori che vogliono aprire c'era anche Matteo Salvini con la maglietta io apro e con una natura un pochino ambigua della maggioranza che tiene questo governo perché cartello 21 guardate cosa dice Speranza riguardo alla politica da tenere sul Covid e cartello 22 quello che dice Salvini allora la linea rigorista esprista sempre espressamente dal governo dal ministro Speranza continuare le restrizioni il rischio non possiamo scherzare col fuoco e cosa va a dire nello stesso giorno Salvini cartello 22 i ristoratori devono poter lavorare anche la sera servono un ritorno alla vita riaprendo sicurezza palestre piscine teatri tornassero a riaprire altrimenti sarà un problema non solo economico ma sociale Giannini e poi il professor Prodi penso che dovremo abituarci a questo continuo tira e molla da parte di Matteo Salvini che ripropone uno schema che abbiamo già visto in passato non tagliato sulla Lega e cioè il partito di lotta e di governo Salvini continuerà a farlo perché è nella sua natura e perché per alcuni versi gli conviene anche dal punto di vista della sua constituency politico-elettorale dopodiché c'è un momento di sintesi e in questo Draghi può fare molto in questo davvero sì la prova l'abbiamo avuta oggi stesso perché come giustamente ricordavi tu e le tabelle di Pagnoncelli e quelle che abbiamo visto ora fino adesso la cacofonia tra quanto ha detto Salvini e quanto ha detto Speranza sul virus è evidente dopodiché Salvini va a Palazzo Chigi da Draghi si chiudono in stanza e quando Salvini esce anche sulle questioni che riguardano i lockdown usa un tono diverso e anche contenuti diversi cioè non c'è più la maglietta hashtag io apro ma dice dobbiamo tener conto dei fatti dobbiamo tener conto della realtà Draghi farà la sintesi ecco io credo che vivremo questo stop and go piuttosto frequentemente la cosa importante è che Draghi riesca a fare quelli che un tempo Pietro Nenni chiamava equilibri più avanzati finché funziona l'Italia e il governo hanno tutto da guadagnare quando il meccanismo si inceppa purtroppo finiamo risucchiati nella vecchia politica allora arriveremo alla professoressa Capua con un cartello che ci esemplifica quattro suocere lei ha parlato di suocere quattro suocere in giro per il mondo ma professor Prodi se uno sta a guardare i numeri che sorreggono Draghi adesso sono un po' di più i voti di centrodestra perché il Movimento 5 Stelle ha avuto molto defezioni e c'è un altro dato cartello 4 guardi questo sondaggio che più tardi ci presenterà Nando Pagnoncelli si inizia a diffondere quello che diceva Giannini attenti a non solleticare il sentimento antipolitico ma si inizia a diffondere un concetto che dice beh ma i politici dicono tutto il contrario di tutto pur di avere voce in capitolo secondo il nostro sondaggio il massimo esponente Renzi col 31 poi Salvini poi Di Maio Zingaretti con numeri più bassi ma in questo ambito come potrà Draghi tenere la barra dritta sarà più facile o più difficile? Ma più larga è la maggioranza più è facile nonostante tutti dicono il contrario cioè in una coalizione se nessun partito è forte abbastanza a mettere in crisi il governo quel governo è più sicuro questo è chiaro la semplicità del ragionamento matematico certo e quindi in questo momento date le condizioni dell'Italia data la frammentazione politica che abbiamo per il governo c'è la massima sicurezza possibile perché se qualcuno fa i capricci e va fuori come è capitato anche recentemente il governo non cade allora è inutile che noi facciamo pensieri sull'impossibile la situazione è questa e secondo me Draghi più decide più fa in fretta più si conferma anche nel paese come fatto di fiducia no cioè l'Italia è demoralizzata se si prendono delle decisioni concrete subito anche piccole ma concrete il paese lo segue poi i partiti possono anche fare i capricci ma quando vedono che il paese ha un orizzonte diverso poi si adeguano ed è sempre all'inizio sanno fare i loro interessi ed è sempre all'inizio che ecco professore è sempre all'inizio che queste cose vengono più digerite perché beh ora diamogli l'opportunità di fare poi lo giudicheremo professore Sacca poi le diceva mia suocera in Scozia non mi ricordo che situazione aveva notato noi abbiamo fatto un cartello quattro nonne quattro suocere dipende dai punti di vista allora alcune vaccinate alcune no nei paesi dove oltre al vaccino c'è anche il lockdown le cose vanno molto meglio serve il mix forse ma la differenza la fa il lockdown vedete l'italiana ha appena iniziato la vaccinazione prego beh allora la vaccinazione da sola non basta ma non basta perché bisogna vaccinare numeri significativi di persone prima che si cominci a vedere il suo effetto no quindi c'è un è necessario un periodo di avvicendamento e di coesistenza delle misure di restrizione e delle misure di vaccinazione quando arriveremo all'immunità di gregge o almeno arriveremo all'immunità di gregge per le categorie a rischio guardate già questo sarebbe tanto ed è un po' quello su cui sta puntando Boris Johnson il cartello delle suocere è un cartello perché la suocera diventa un po' il punto di riferimento delle conversazioni ha perché mia suocera è vaccinata ha perché mia suocera è in Lombardia in Veneto ecco allora ci sono delle situazioni di lockdown molto duro che che vengono applicate anche in Inghilterra cioè l'Inghilterra è vero che è molto avanti con le vaccinazioni ma è vero anche che mia suocera è chiusa in casa e non le fanno mettere neanche il naso fuori di casa negli Stati Uniti invece c'è una situazione ben diversa vi sono stati che diciamo non prevedono alcuna misura di restrizione e altri o meglio anche alcune città che sono invece più attente anche a questo è chiaro che diciamo nei posti per esempio dove abito io in Florida dove c'è spazio c'è aria c'è bel tempo c'è la possibilità di muoversi e di vedersi anche a distanza nel senso è tutto molto più semplice però quello che dobbiamo ricordarci è che noi non è che possiamo essere più furbi del virus noi dobbiamo usare gli strumenti che abbiamo con intelligenza perché lui la furbizia non la capisce noi non possiamo dire ah ma oggi è l'ultimo giorno poi lunedì chiudono allora vado mi vado a fare un giro in un altro comune allora se tu in quel comune ci devi andare perché è importante ci vai se invece in quel comune ci vai così perché diciamo è un po' un capriccio magari non ci va in quel comune adesso che stiamo per chiudere tutto cioè non è una battaglia contro le restrizioni è una battaglia contro il virus e la dobbiamo combattere con intelligenza non dobbiamo fraintendere il nostro nemico non sono le le misure che prendiamo contro il virus ma è il virus alla professoressa Capua rimane con noi e ora torneremo su questi argomenti a professor Prodi e a Massimo Giannini chiedo con un'immagine se possibile secca vi aspettavate che il movimento 5 stelle franasse in questo modo una volta fatta la scelta per Draghi e in fondo la pandemia li ha tenuti uniti più di quanto si potesse pensare o è Draghi aver fatto defragrare le due anime Giannini Prodi Draghi è stato un big bang per la politica italiana perché solo lui poteva riuscire a determinare questa frattura all'interno del movimento 5 stelle che io considero sana perché si introduce un elemento di chiarimento in un movimento che finora aveva sempre giocato sull'ambiguità adesso si sa più o meno su chi si può contare Beppe Grillo se ne intesta la paternità e su chi invece seguirà un'altra strada la stessa cosa vale anzi persino a maggior ragione per la Lega che ha fatto un testa coda radicale ed è diventata improvvisamente europeista questo è successo solo per per il fatto che Draghi è stato incaricato e ha fatto il governo quello che succederà adesso non lo sappiamo però ripeto considero positiva sia l'una che l'altra svolta per la politica e per il paese Professor Prodi sulla natura dei diversi populismi di destra e sinistra ha ragionato molto con noi anche nei mesi passati cosa emerge dal suo punto di vista adesso? Prima di tutto sono perfettamente d'accordo con Giannini che era naturale che avvenisse questo Draghi è stato il dettoratore ma allora parte un movimento che si mette insieme per un'ansia di cambiamento totale ma senza averlo ben definito arriva il momento del governo in cui deve prendere decisioni come fa a stare unito quando è nato in modo del tutto diverso dalla necessità di governare io ritengo che in fondo la scissione sia stata modesta rispetto a quella che mi aspettavo nel senso che il nucleo di 5 stelle ha deciso di stare al governo di dividere la responsabilità di governo Grillo l'ha guidata in questa direzione e quelli che sono usciti sono un'altra cosa a questo punto è chiamiamolo con il suo nome è diventato un partito e ha la responsabilità di essere un partito e di dover prendere decisioni concrete ma io questo lo vedo come un fatto naturale così come sono d'accordo con Giannini quando dice vede positivamente la 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 svolta europeista della Lega questo qualche due anni fa dicevamo e dicevano i nostri osservatori europei l'Italia a rischio perché il populismo è ampio e non si sa mai eccetera a questo punto si accetta l'euro si accetta l'Europa quando io sento fare l'apprezzamento dell'euro da coloro che mi insultavano per avere contribuito a costruirlo beh io sono contento è comprensibile professore ma sono contento allora grazie professor Prodi Massimo Giannini resta con noi tornerà insieme anche alla professoressa Capua con Cittade Gregorio benvenuta alla Repubblica Barbara Gallavotti biologa autrice di Superquark consigliere del museo della scienza e tecnologia di Milano Pierpaolo Sileri Movimento 5 Stelle già viceministro della salute forse prossimo viceministro non si sa si scoprirà anche in base ai calcoli che abbiamo detto Carlo Calenda leader di azione bentornato così come bentornata al direttore dell'Espresso Marco Damilano buonasera Alessandro Salusti direttore del giornale sempre in forma sì perché si è trovato positivo sì sì sempre teniamo duro asintomatico asintomatico Gianni Barbacetto editorialista del Fatto Quotidiano bentornato e bentornata Stefania Salmaso dell'Associazione Italiana Epidemiologia buonasera Calenda come avete iniziato sul Covid non è ci sono tutte queste differenze dal Conte 2 no anzi penso che sopite le differenze rimangono anche tra le forze politiche credo che diciamo c'è una linea molto chiara che avete visto del Ministro Speranza è una linea diversa della Lega e in questo forse la cosa più immediata era semplicemente prolungare e però una decisione andrà presa e io lei lo sa sono venuto tante volte non ho mai commentato provvedimenti del governo ho solo ubbidito e tuttavia c'è una scelta chiara o noi andiamo per una strategia di estrema diciamo quella che viene chiamata una strategia no Covid cioè per arrivare all'azzeramento del Covid attraverso misure restrittive nel frattempo in cui vanno avanti questo problema le vaccinazioni che è europeo ed è enorme o noi invece cerchiamo una strategia di convivenza che però ha un rischio sulle varianti e di altre diciamo situazioni molto elevato questa è una scelta che sarà la scelta di Draghi per lei? allora io penso che la situazione sia pericolosa però sono molto attento perché non ho tutti i dati quindi meglio combattere duro subito e chiuderò la vicenda però lo ripeto fino a oggi mi sono tenuto fuori da Milano riparte quell'altro riaprite quell'altro richiudete e mi è andata bene non peraltro ma penso perché non ho tutti i dati li raccolgo abbiamo un team che lo studia però penso che la situazione un po' di pericolo ce l'ha rivedere Brescia in una condizione come oggi è stata di fatto verso la zona rossa delle condizioni in Umbria di estrema difficoltà i numeri che salgono se da una parte c'è Speranza e dall'altra Salvini occhio a quello che dice Speranza dice lei Marco da Milano che sta succedendo? allora volevo fare la fotografia della giornata che poi se vogliamo è un po' l'eredità che il governo Conte II lascia al governo Draghi allora oggi poi ci sono tanti esperti da questo punto di vista ma la variante inglese coinvolge un terzo circa della popolazione il 30% il ministro Speranza aveva detto in intervista alla stampa del 28 dicembre entro il primo aprile ci saranno 13 milioni di italiani vaccinati oggi sono fine febbraio 23 febbraio sono 1,3 milioni di italiani che hanno ricevuto le due dosi c'è la notizia di AstraZeneca che sarà fino ai 65 anni ma proprio pochi minuti fa la Reuters ha detto che saranno dimezzati le dosi per l'intera Unione Europea cioè da 180 milioni di dosi previste a 90 milioni aggiungiamo l'inchiesta del Guardian sul piano pandemico aggiungiamo quanto sta emergendo da un'inchiesta che diciamo sfiora la struttura commissariale di Arcuri ieri se ne è parlato diffusamente anche l'altro ieri su questa rete devo dire devo dare atto al giornale di Sallusti che è stato l'unico che ha fatto l'apertura su una cosa piuttosto clamorosa allora questa è la fotografia della situazione del Covid che un governo lascia in eredità all'altro allora è vero che il governo Draghi ha una maggioranza molto più ampia però il punto è questo lo stesso Presidente del Consiglio ha detto nel discorso di fiducia il tempo è breve è stato lui che l'ha detto mi ha colpito e non se ne è discusso molto il tempo è breve quindi serve coraggio visione ma il tempo dei governi in Italia è breve è ancora più breve il tempo per dare una risposta su tutti questi punti è breve il tempo per dare la risposta che potrebbe cambiare la prospettiva dello stesso tempo del governo Sallusti No condivido quello che ha detto il collega ma il tempo non può essere breve per risolvere questi problemi ci vogliono tempi lunghi visione a medio lungo termine cioè non possiamo è ovvio che non possiamo immaginare di aprire domani mattina delle fabbriche che producono vaccini ma se non ci attrezziamo con una visione più lunga del fatto che dobbiamo avere delle fabbriche che producono vaccini da questa cosa non ne usciamo io aggiungo a quello che ha detto il collega De Milano però un elemento che a me è sembrato di grande novità è che i responsabili del CTS cioè dei famosi scienziati consulenti scienziati uscendo dall'incontro con il presidente Draghi hanno detto no la situazione è delicata per rimbarla però attenzione non facciamo terrorismo che è la prima volta che da questo organo che è sempre stato non dico quello terrorista ma insomma quello più allarmista chiamiamolo così arriva una frase del genere probabilmente sta cambiando qualcosa anche nella strategia comunicativa che evidentemente coincide con una strategia politica strategia politica quantomeno nell'allertare la popolazione sul momento in cui siamo ma noi abbiamo la dottoressa Salmaso che ci spiega questo rvm mobile guardate abbiamo fatto un grafico animato allora se parte vi dico di che si tratta l'andamento dell'indice RT medio in Italia nelle ultime settimane inizio anno si è registrato un aumento poi la discesa a fine gennaio infine in queste ultime settimane la curva sta salendo di nuovo a livello di guardia allora la linea del rigore che sembra aver scelto Draghi perché nei fatti lo vediamo c'è la nuova zona rossa ci sono torniamo anche come aree del paese a guardare degli elementi ma una comunicazione che diceva bene Salusti è una comunicazione un po' differente beh di fatto la strategia è quella appunto dichiarata di combattere il covid la tattica però può essere diversa adesso la tattica che stiamo adottando è quella di rintuzzare i focolai di covid dove sono e non di giocarsi il jolly che funziona comunque della paralisi del paese la carta matta la carta matta perché quella lo sappiamo la caliamo e tutto è fatto ma quanti altre situazioni possiamo affrontare così quindi in questo momento da quello che si vede è chiaro che le restrizioni anche di Natale hanno nel loro piccolo anche se non sono state drammatiche come il lockdown di aprile hanno dato un certo un certo impatto e quindi era calata un po' la curva dei contagi e l'indice RT il quale sta un po' risalendo soprattutto nel centro Italia ecco aspetti guardi cartello 28 l'Italia zone questa è l'Italia colori come oggi ci spiega come si muove la pandemia in Italia il 28 eccolo qua beh di fatto di fatto vediamo che ci sono delle zone soprattutto al centro dell'Italia che sono diventate arancioni è partita per prima la zona dell'Umbria tra l'altro noi per comodità diciamo che le regioni sono tutte di uno stesso colore sappiamo che ci sono situazioni invece circoscritte diverse e al centro Italia Umbria Emilia Romagna dalla parte vicina all'Umbria anche la Toscana sono quelle dove sono venute fuori si sono mossi i tassi di incidenza per prima dei bambini e poi sono state sono venute fuori anche le segnalazioni di varianti che non è che sono piovute dal cielo già c'erano semplicemente bisogna cercarle Concita De Gregorio questo è Salvini con la maglietta io apro nel governo che dice forse si chiude io penso che per evitare appunto di rincorrere i fatti di giornata e in versioni a U anche frequenti prossime come ha cambiato l'idea una volta potrebbe cambiarla un'altra non farei troppo affidamento non sarei troppo ottimista io penso che forse noi ci dovremmo concentrare tutti quanti sul fatto che quando le cose succedono finiscono di succedere cioè sono processi che portano a delle conseguenze quindi noi oggi siamo in questa situazione perché questo è l'esito di un processo lungo che ci ha portato fin qui allora questa cosa serve perché ci può forse insegnare a qualcosa per il futuro e evitare di rincorrere il giorno per giorno i vaccini sarebbe facile farli se ci fossero il problema è che non ci sono l'Italia 50 anni fa ha vaccinato in una settimana un milione di persone quando ci fu l'epidemia del colera Bari e Napoli due città del sud un milione di persone in una settimana non sarebbe difficile prendere le caserme gli edifici pubblici e vaccinare un milione di persone se ci fosse un milione di vaccini perché non ci sono i vaccini i vaccini non ci sono perché sistematicamente nel corso degli anni e dei decenni i governi che si sono succeduti hanno tagliato i fondi per la ricerca scientifica abbiamo costretto generazioni di ragazzi bravi barra bravissimi ad andarsene da questo paese e oggi succede qualcosa che è la conseguenza di quello che è successo e dobbiamo comprare e non produrre il vaccino ma comprarlo bisogna ora chiedersi se questo governo è in grado di cambiare le cose o se una maggioranza così composita fa sì che è impossibile sognare di avere una riforma del fisco della previdenza della ricerca ma aspettate perché ci arriviamo dottoressa Gallavotti si diceva il vaccino ma intanto non è un vaccino sono tanti vaccini e il circo ha notizie contraddittorie ad esempio AstraZeneca viene consigliato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per tutti in Italia viene indicato fino ai 65 anni a questo punto ci si chiede ma se ci sono dei dubbi vale la pena farlo a questo punto aspetto che arrivi quello buono è meglio aspettare un vaccino migliore ma assolutamente no non c'è nessun dubbio sulla efficacia sulla sicurezza di questo vaccino questo è un vaccino che copre sicuramente al meglio come minimo 65 persone vaccinate su 100 ma molto probabilmente tutto fa pensare che tutti coloro che lo ricevono praticamente il 100% sia protetto dal rischio di contrarre le forme più gravi o addirittura di morire che tantissimo non è affatto poco diciamo che se ce l'avessimo avuto un anno fa avremmo fatto i salti di gioia e probabilmente non saremmo neanche arrivati a questo punto e poi bisogna anche considerare come è fatta la popolazione italiana vediamo che nella popolazione italiana c'è un cartello nella fascia di età nella quale è consigliato AstraZeneca quindi dai 18 ai 65 anni rappresenta addirittura 37 milioni la maggior parte della popolazione italiana è essenziale che quelle persone facciano ricorso al vaccino se gli viene offerto perché sono le persone attive sono le persone che circolano di più possono contagiarsi di più possono contagiare di più gli altri e poi c'è anche un discorso di comunità diciamo immaginiamo di avere 20 persone ecco guardate se prendiamo 20 persone che non sono vaccinate chiaramente il virus può circolare molto fra di loro ma se si vaccinano con un vaccino che protegge anche solo al 65% intanto 13 di loro sono totalmente protette e poi comunque il virus circola di meno perché anche fra gli altri il fatto che siano stati vaccinati tutto fa pensare che se anche si infettano possono comunque contagiare di meno una sordina che metti al fenomeno fondamentalmente male che va ma allora perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice fatelo tutti e noi solo fino ai 65% il vaccino è approvato dai 18 anni poi noi in Italia abbiamo a disposizione anche altri vaccini che sono Pfizer e Moderna che sembrano essere più adatti per le persone anziane intanto perché sono stati sperimentati di più sulle persone anziane poi garantiscono una totale protezione dalla malattia 95 vaccinati su 100 non solo dalle forme gravi anche dalle forme più leggere che comunque per una persona anziana possono essere problematiche e quindi visto che noi siamo un paese fortunato che ha la possibilità di offrire questo vaccino alle persone anziane ovviamente glielo offriamo ma la cosa essenziale comunque è far circolare il meno possibile il virus Sileri lei le consiglierebbe a tutti quale che sia AstraZeneca pure che dopo il primo dopo che è stato iniettato insomma si rimane un po' noi abbiamo messo il limite dei 65 anni come anche altri paesi europei quindi come la indicazione riserverei AstraZeneca per colore sotto i 65 anni e gli altri due vaccini per colore sopra i 65 anni o sotto i 65 con comorbidità come li raggiungi i cittadini come li fai sapere tocca a te beh allora in questo momento si sta procedendo alle vaccinazioni degli over 80 e che a seconda della regione possono già prenotare nella regione Lazio devo dire funziona molto bene così come anche in Veneto prenoti ti danno già il giorno ma a lui chi glielo dice tocca a te beh vengono informati dalla regione i medici di medicina generale è chiaro che poi vi è tutta la comunicazione che mi dico io credo tocca agli amministrativi dell'università chi glielo dice l'università stessa i lavoratori l'ente dove lavorano però è la regione che deve comunicare quando toccherà a noi secondo me toccherà a noi io alcune settimane fa in un'intervista dissi che arriveremo a giugno con un quinto della popolazione vaccinata quindi non mi sono mai sbilanciato sui 16 milioni e quant'altro ma lui è vice io da medico so che ci può essere sempre un problema dietro l'angolo compresa la produzione e così è stato però devo dire che realisticamente a noi toccherà fra maggio e giugno tanto lei l'ha avuto pure ma chi l'ha avuto si deve rivaccinare certamente sì perché averlo avuto innanzitutto il titolo anticorpale qui poi ci sono scienziati migliori di me voglio dire però il titolo anticorpale scende ma direi che nel mio caso sarà una sorta di richiamo nel breve oppure funziona da secondo l'orientamento infatti è quello di aspettare almeno sei mesi e poi che forse è sufficiente una dose sola Gianni Barbacetto ma per avere questi cambi di linea valeva la pena di cambiare governo? Domanda anche a Calenda se vuoi se dobbiamo guardare la diciamo i primi atti del governo Draghi in effetti io vedo noto una grande continuità uno può avere il giudizio che vuole sul governo Conte o sul governo Draghi io vedo per ora una grande continuità mi ero segnato un po' di diciamo temi su cui c'è una continuità addirittura assoluta no al MES sul recovery sulla gestione del recovery Draghi ha fatto i complimenti addirittura al piano precedente sulla gestione pandemica sulla diciamo sullo stare cauti nei confronti delle aperture ne abbiamo già parlato fin qui la delega sui servizi segreti se la tiene quando se se la teneva Conte era un accentratore se se la tiene Draghi invece fa bene sull'ILVA sul non toccare la riforma della prescrizione sul blocco dei licenziamenti ecco tutti i temi in cui c'è una perfetta continuità per ora tra il governo Conte e il governo Draghi quello che invece non condivido è l'ottimismo nei confronti di Salvini ecco io non credo che Salvini sia diventata che la Lega sia diventata europeista la Lega sta facendo come dire due ruoli in partita ha messo i leghisti in doppio petto Giorgetti dentro il governo perché sa che deve star lì perché dove c'è da gestire denaro meglio esserci ci sono 209 miliardi che peraltro sono stati portati a casa in Italia dal governo Conte non da Draghi ci sono questi da gestire e quindi è chiaro che la Lega ha messo lì i leghisti in doppio petto per presidiare diciamo il tesoretto la linea sostanzialmente non cambia la prospettiva si dice Barbacetto dice Barbacetto attenti perché se la linea è quella la prospettiva è brutta perché prima c'era una maggioranza coesa fino a Italia Viva ma adesso iniziano i problemi Calenda poi ma insomma adesso per dire che la linea è uguale a quella di Conte nel giro di Trennano Secondi manco nominati i sottosegretari mi sembra un azzardo io credo che sarà molto prudente sulla gestione del virus giustamente come peraltro è stato nella prima soprattutto io credo nel primo lockdown il governo Conte infatti io l'ho sempre riconosciuto credo che il recovery plan scritto dal governo Conte sia inesistente tecnicamente nel senso vi sfido sfido i cittadini a leggerlo e a trovare un dato su come si fa una cosa se tu dici io voglio portare all'inizio gli asili nido al doppio della media europea quanto come lo fai dove lo fai quanto ti costa come ampli le lauree non c'era niente e credo che Draghi giustamente debba tenere insieme una maggioranza molto diversa e ha reso anche io l'ho detto giusto onore a quello in aula e trovato le scene di coloro che si sono hanno dissentito una cosa di mancanza di civiltà istituzionale perché è chiaro che ha ringraziato per il lavoro quello che è venuto prima io penso che sarà un governo diverso spero sia un governo migliore bisogna e lo dice una persona che da molti mesi dice che l'unica soluzione a questa legislatura pazza e trasformista era Draghi nel pubblico ludibrio generale pernacchie ironie campione del mondo scusi campione del mondo il suo direttore di giornale dicendo mai accetterà Draghi figuriamoci telefonate invece di dire queste buffonate ma lasciando perdere questo quindi l'ho molto auspicato però dico anche che adesso le forze politiche devono essere oggettive e propositive cioè quello che non si può sentire scusi e chiudo davvero è il peana ex ante cioè in cui si dice sarà la risoluzione di tutti i problemi dell'universo guardate come quando compri lo straniero che sembra sogni lo scudetto lo fecero con Monti l'apologia dell'Oden e finì malissimo allora però io faccio un esempio prendiamo una maggioranza che deve agire sulla giustizia la prescrizione ad ora non c'è qualcuno la vuole il 5 stelle no dice Draghi sceglie no si rimanda ad esempio un tema alle caro per il suo libro di estremo successo viene posticipato ora torniamo a vedere questo cosa può valere nella vita quotidiana in termini di vaccinazioni ma ad esempio prendiamo un esempio è un esempio che è un po' inquieta è Sallusti ma io penso onestamente il nostro mestiere è quello di fare i cani da guardia al potere qualsiasi esso sia quindi però insomma è passata una settimana un paese non è una macchina statica ferma dove tu sali metti la retromarcia e prendi un'altra strada è una macchina che sta correndo e quindi tu sali insomma io credo che se ci ritroviamo tra di noi tra un anno tra sei mesi spero ma magari anche tra un anno probabilmente le osservazioni di Barbacetto non stanno più in piedi dipende tutto dai fatti allora andiamo ai fatti e poi da Milano e De Gregorio e dottoressa Salmaso cartello 23 fare i vaccini allora per avere più vaccini si può organizzare la produzione in Italia il problema è che quelli prodotti in casa sarebbero disponibili in un anno e mezzo beh non si può improvvisare la produzione di vaccini intanto ogni officina di produzione deve essere certificata le materie prime bisogna sapere da dove vengono quindi è evidente che ci vuole del tempo per adeguare le risorse ora se abbiamo capito tutti che l'idea di eliminare radicare il virus del covid sia assolutamente non perseguibile anzi si comincia a fare strada l'idea che forse ci vaccineremo adesso e forse ci dovremo vaccinare anche in futuro quindi un investimento potrebbe essere senz'altro ma allora dottoressa Gallavotti mi dica se ha delle basi o no il timore che arrivino delle varianti del virus contro le quali il virus non protegga più beh sì è stata da sempre la grande paura ma proprio oggi l'organismo deputato a governare la sanità negli Stati Uniti ha detto guardate ricordatevi che quando e se dovesse arrivare delle varianti che richiedono una riformulazione dei vaccini esistenti non sarà necessaria una sperimentazione da zero come è stata questa volta quindi potremo rivaccinarci con una formula aggiornata in più breve tempo perché si tratterà sostanzialmente di adeguare un vaccino che c'era modificando un po' il principio attivo così come viene fatto ogni anno per il virus dell'influenza quindi in realtà questa non è una cosa che sarà insormontabile il problema è che bisogna cercare comunque di diminuire le probabilità che arrivino queste varianti un Rvm su come si diffondono le varianti è chiaro che più il virus circola più è probabile che a un certo punto compaia una forma variata che si diffonda è un po' come se ogni volta che il virus si riproduce noi lanciassimo un dado con molte facce più lanciamo il dado più abbiamo probabilità che esca la faccia sfortunata se esiste quindi Marco da Milano con cita De Gregorio Silenica Stavo pensando per tentare di legare i due temi che questa è la legislatura delle varianti politiche variano hanno tutti detto mai con quello mai con quell'altro poi si sono alleati sempre con tutti e la cosa che colpisce non è tanto questo perché la coerenza è la virtù degli imbecilli è una legislatura così complicata per forza bisogna fare alleanze ma almeno spiegalo spiegalo alla pubblica opinione spiegalo al tuo elettorato cioè Salvini è passato da prima i padani poi un pomeriggio di cinque anni fa è andato a piazza del popolo con quelli di casa Pound che avevano una maglietta con su scritto sovranismo ha detto prima gli italiani adesso nel giro di una settimana passa prima gli europei e in tutte queste svolte mai una volta che dica scusate mi sono sbagliato a dire prima i padani effettivamente c'erano anche i medidionali scusate mi sono sbagliato a dire sovranità nazionale effettivamente questa Europa non è da buttare la stessa cosa vale per il movimento 5 stelle perché se erano così arroccati sul conte 2 ma gliel'abbiamo chiesto qui c'erano anche alcuni di noi due settimane fa Vito Crimi mai col governo Draghi poi ha detto ho agito distinto cioè il vice ministro degli interni agisce distinto scrive quello che gli pare come se fosse un leone da tastiera qualsiasi allora io credo che questo sia un problema e rispetto a questo l'antidoto è che lo stesso Draghi sarà sempre più chiamato a fare politica e stasera tra qualche minuto sarà a Ciampino ad accogliere le salme di Luca Attanasio e di Vittorio Iacovacci è un gesto politico è un gesto che lo porta fuori dalla sua vita precedente lo porta a incontrare la realtà il dolore la sofferenza due servitori dello Stato uccisi ed è quello che ti fa poi incontrare la realtà fare un passo da cui non si torna più indietro Concita De Gregorio ma d'altra parte questo è un governo politico è un governo politico con uno strano ircocervo con un innesto di 4-5 tecnici di fiducia di Draghi ed è un governo dove poi i partiti hanno indicato i loro candidati seguendo le correnti i tre capi correnti del PD tutti i sottosegretari saranno misurati col bilancino secondo il manuale Cencelli saranno tutti politici quindi sarà un governo politico con una cabina di regia di persone di fiducia di Draghi che faranno le due cose principali che deve fare cioè vaccinare la popolazione e distribuire 209 miliardi e voglio dire che si farà quindi si continuerà a pagare il conto dopo perché si interviene sempre sull'emergenza ma sarebbe un'offesa all'intelligenza di tutti gli italiani pensare che la Lega e Salvini abbiano cambiato idea sull'Europa sugli immigrati ma non ci crede nessuno è del tutto evidente il MES Barbacetto e Sileri ma scusami Giovanni ma il governo non è caduto sul MES bisognava per forza averlo adesso non interessa più che non dovevano essere di conte ma sono di Draghi Barbacetto è chiaro che quello che tutti volevano era soltanto partecipare alla spartizione di questi soldi ma legittimamente sono tanti soldi e bisogna che tutti stiamo insieme perché dicono Barbacetto cartello 4 la gente non è che non reagisce la gente reagisce dice vabbè ma quindi alla fine vi sembra che più o meno siano disposti a dire tutto il contrario di tutto pur di esserci come diceva Concita il 31% dice beh Matteo Renzi sì Matteo Salvini sì il 28% Di Maio sì il 12% il 5% dice Zingaretti poi la Meloni poi Berlusconi Barbacetto è una domanda per Sileri un flash ha ragione ha ragione Concita cioè io non credo assolutamente alla alla conversione europeista di Salvini Salvini continua a fare il suo diciamo fuori no mentre quelli là in doppio petto stanno dentro il governo e cercano di presidiare il tesoro lui continua a fare la sua attività che è quella della campagna elettorale permanente Salvini è in campagna elettorale permanente e lo fa con toni che possono dire assolutamente il contrario di quello che dice il suo governo il governo a cui lui ha detto di sì perché lui ha un'altra interlocuzione che sono le piazze che sono le pance degli italiani come se fossero due piani paralleli e allora il problema è questa strana anomalia italiana e cioè in nessun paese democratico al mondo si è fatta una grande ammucchiata in nome della pandemia se tu fai una grande ammucchiata poi ti porti dentro queste confusioni per cui uno dice il contrario e il contrario adesso adesso che è sospeso preferisce immaginarsi come politico o come tecnico però voglio dire io un anno fa credo proprio parlando qui dissi sarebbe bello vedere tutti uniti nella lotta contro la pandemia cioè tutti quando si parla di salute parlare la stessa lingua ci siamo quasi riusciti dopo un anno voglio dire col governo Draghi nel senso che è vero che potrebbe esserci confusione però come diceva il concilio di Grigori in questo momento cosa abbiamo la vaccinazione contenere la diffusione del virus e pensare al recovery plan credo che su questo una sintesi si possa ma si debba si debba fare confusione potrebbe esserci questo lo vedremo nelle prossime settimane però da medico noi abbiamo quasi 100.000 morti cioè arriveremo a giugno che superiamo i morti civili della seconda guerra mondiale che furono 130.000 dinanzi a una cosa del genere perdonatemi secondo me non c'è né destra né sinistra c'è aiutiamo gli italiani punto dopodiché è vero c'è il populista c'è il sovranista questi problemi ritorneranno a galla è in dubbio ritornerà il MES ritorneranno tutti questi problemi però al momento io penso all'anziano che muore in ospedale penso al virus e le scuole che sono chiuse penso ai teatri chiusi penso penso all'Italia che è ferma e dinanzi a questo perdonatemi e questo l'ho sempre detto in ultimo anno me ne infischio dei partiti politici io personalmente da medico e da politico dico andiamo d'accordo con chi possiamo andare d'accordo piccola pausa anzi 90 secondi neanche piccola piccolissima allora non perdiamo nessuno dei nostri ospiti li vedete ogni tanto scomparire ma tornano tutti prima però sapete che c'è il mondo della cultura in subuglio ci sono state manifestazioni e noi abbiamo Neri Marco Re che fa Dario Franceschini il ministro della cultura tra pochissimi istanti la psicanalisi del ministro della cultura Dario Franceschini per Neri Marco Re dottore ciao io non mi sento amato no non Giuliano Amato nel senso che non mi sento ben voluto perché? perché mi accusano dei peggiori nefandese hanno detto che sono un opportunista che tengo più alla poltrona del ministro che le poltroncine dei cinema e dei teatri ma si rende conto? sì è vero dottore io sono stato ministro dei beni culturali in cinque governi consecutivi c'è anche chi mi chiama Jackson 5 per fare delle battute spiritose a volte sorrido per condiscendenza ma dentro mi incasso incasso e mi incasso e più incasso e più mi incasso perché dottore ce la metto tutta nel mio lavoro ho persino cambiato nome al mio ministero non più beni culturali ma solo cultura capisce la portata della rivoluzione c'è un risparmio secco del 30% delle lettere dell'alfabeto tutte queste lettere risparmiate possono dunque essere utilizzate nei copioni teatrali nelle sceneggiature a disposizione dei lavoratori del spettacolo che ne hanno bisogno per recitare un aiuto davvero concreto per l'arte che non a caso si chiama arte proprio perché si distingue da quella cosa brutta 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 e volgare che si chiama denaro e coglierò l'occasione dottore per scusarmi con tutti quegli artisti e tecnici che si saranno sentiti offesi nel ricevere della vilpecunia quando invece avrebbero preferito nutrirsi di bei libri buoni dischi ottime partiture eccetera eccetera guardate io dico che non verrete più umiliati con questi 600 euro una volta ogni tanto vi prometto solennemente che non riceverete più niente così da poter vivere di sola arte e amore vissi d'arte vissi d'amore perdoni la devagazione dottore ma sotto questa libreria batte un cuore soprano stava dicendo ah no io stavo dicendo mi accusano di essere contrario alle riaperture delle sale io io che mi sono impegnato perché possono riaprire in totale sicurezza su Marte e per ora ci abbiamo mandato delle sonde ci abbiamo spedito anche Boldi e De Sica per dimostrare che quando c'è il giusto distanziamento io non ho nessun problema ma comunque vuole mettere vedersi un film o una registrazione teatrale sbraccati su un divano o una chaise longue come questa senza essere costretti a osirio di casa trovare parcheggio spendere 5 euro per il guardaroba sgomitare per il bracciolo con il vicino di posto rimanere svegli per tutta la durata della rappresentazione tornare a casa difendendosi da altri brosseggiatori una fatica indicibile uno invece se ne sta a casa comodo tranquillo sicuro lasciando fuori tutti i pericoli perché là fuori è una giungla entra e fatti un bagno caldo c'è una cappatoia azzurro fuori piove un mondo freddo it's wonderful c'è una cultura che spazia da conto a conto che va dall'alto in basso dottore senta qua a pelle figlio da pollo fece una palla di pelle di pollo tutti i paesi vengono a galla per vedere la palla di pelle da pollo fatta da pelle figlio da pollo non male adesso Draghi ha detto che le città italiane senza teatri cinema e musica sono più tristi che faccio e riappro per davvero o lo dichiaro soltanto nelle interviste e apri le sale e chiudi le sale e stacca i biglietti e rincolla i biglietti oh è difficile fare ministro sarebbe molto più semplice a recitare senta qua dottore a Draghi farò un'offerta che non potrà rifiutare che forza Italia sia con te PD telefono casa perché mi attaccano di continuo dottore invece di attaccarmi dovrebbero farmi un monumento sono l'asterix della cultura italiana è bastato riconfermarmi al ministero e la melone ha citato Bertolt Brecht solo una coincidenza eh non credo mi dica piuttosto se non ho fatto un miracolo guardi non sono io che non voglio bene al mondo dello spettacolo è il mondo dello spettacolo che non mi ha mai voluto bene allora ho dovuto ripiegare sulla politica sai quante volte ho fatto il provino per il ruolo di premier mi dicevano non sei ancora pronto devi farti le ossa e accettavo di tutto una volta mi hanno proposto di fare la comparsa in quel gran pezzo della Leopolda tutta Renzi tutta calda capisci che è umiliazione ma io non demordo dottore prima o poi arriverà il mio momento continuo a studiare a prepararmi per il ruolo di protagonista vuole sentire? eh certo che vuole sentire la pago deve stare a sentire ho ancora dieci minuti il mio nome è Franceschini Dario Franceschini mi dia una maggioranza agitata non mescolata Salvini francamente me ne infischio suonala ancora con te bis c'è solo ghiacchiere proporzionale ghiacchiere proporzionale io ne ho viste cose che voi elettori non potreste immaginarvi governi in fiamme a largo di Palazzo Chigi e ho visto la raggi balenare nel buio del Campidoglio e tutto questo citematografo andrà perduto nel tempo come crocette sulla scheda elettorale cancellate dalla pioggia delle larghe intese è tempo di draghi e devo confessare una cosa dottore come ultima ultima ho sognato di uccidere politicamente Zingaretti e ghiacere con Mastella è grave dottore 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 vabbè mi sono tagliato per il teatro guarda qua un terai fish terra cene dottore si sta perdendo uno spettacolo meraviglioso vabbè prezzo per lui Neri Marco Re Dario Franceschini grazie a lui benvenuto Massimo Cacciari professore e filosofo buonasera professor Cacciari buonasera Tommaso Montanari storico dell'arte professore all'università per stranieri di Siena in libreria con la seconda ora d'arte e in Audi sempre con noi Concita De Gregorio editorialista di Repubblica Ilaria Capua virologa dirige il centro di eccellenza dell'università della Florida e anche lei in libreria con il viaggio segreto dei virus buonasera e bentornata professoressa allora professor Cacciari il governo Draghi muove i suoi primi passi le piace come partito si capisce qualcosa? mi pare che ci sia poco da capire quello che deve fare Draghi è chiarissimo affrontare il problema dell'organizzazione efficiente della vaccinazione approntare un recovery plan che sia concreto che non sia un libro di sogni spendere bene i quattrini che arriveranno e poi i ristori i cosiddetti ristori cioè cercare di attenuare la drammatica situazione in cui un terzo del paese sta versando e ha finito cioè voglio dire a meno che non si pensi che sia il governo Draghi con una maggioranza di questo genere a poter fare le riforme che aspettiamo da 30 anni a meno che non si non si coltivino libri dei sogni quello che Draghi può fare deve fare è chiarissimo è assolutamente definito e speriamo lo faccia bene però si parla anche di riforme la riforma fiscale c'è la riforma della previdenza addirittura lui ha detto beh non si può certo intervendere la riforma fiscale ha detto non si può intervenire la riforma della previdenza ma Floris ma Floris come fai a fare la riforma della previdenza per fare la riforma della previdenza in questo paese bisogna rovesciare tutto l'ordinamento istituzionale le regioni le regioni sono il potere che dirige la sanità in Italia fare una riforma sanitaria vuol dire vuol dire cambiare tutti i rapporti tra poteri centrali regioni autonomie locali cosa vuole fare la riforma la riforma fiscale ma la riforma fiscale per fare una riforma fiscale decente un parlamento ci mette una legislatura cosa vuole fare la riforma fiscale e sarà un po' più efficiente nella lotta contro l'evasione probabilmente speriamo montanari che ne pensa ma a me francamente mi pare che il governo Draghi non sia partito proprio con il piede giusto un episodio che può parire secondario ma che invece è rivelatore il fatto che ampie parti proprio quelle sulla riforma fiscale del discorso di Draghi fossero prese di peso da un articolo di Giavazzi sul Corriere della Sera è piuttosto inquietante innanzitutto per l'episodio in sé se fosse successo a Conte sarebbe stato crocifisso in Salamensa credo invece in questo caso quasi nessuno ne ha parlato ma poi il fatto che Draghi si ispiri a uno dei più arditi interpreti diciamo dell'ultraliberismo il pensiero economico ultraliberista in Italia a me fa pensare che si vada nella direzione sbagliata cioè nella direzione dei problemi non della soluzione Professor Cacciari ha una ispirazione liberista a questo governo? Le ripeto sulle questioni che diceva ora Montanari bisognerà vedere quello che fa perché per fare riforme anche piccole occorrono cittadini politici occorrono maggioranze parlamentari occorre capacità di decidere su questioni appunto in cui le forze politiche sono divise e quindi come fa a farlo con un governo in cui ci stanno tutti? Concitta De Gregorio sono d'accordo con Professor Cacciari è assolutamente impossibile fare delle riforme di largo respiro con una maggioranza per usare un eufemismo così eterogenea d'altra parte si sta chiarendo anche un po' meglio la natura di questo governo che era nato come annunciato come il governo dei competenti poi già dalla formazione del governo diciamo si è chiarito che i competenti erano sono 4-5 gli altri sono personale politico capicorrente diciamo pezzi di prima e seconda repubblica che tornano legittimamente diciamo così a riposizionarsi nei posti in cui erano anche parlando al loro elettorato ma dico che si chiarisce ancora più ora che tarda così tanto la nomina dei sottosegretari perché quello che si dice a Palazzo è che Draghi abbia detto ai partiti io non voglio mettere bocca fate voi con perfidia diciamo veramente con un gesto di perfidia lasciando i partiti a scannarsi perché sai Giovanni che i 5 stelle sono passati da 22 a 11 sottosegretari abbiamo anche fatto un calcolo che vi faccio vedere con il cartello che abbiamo non so il numero ma sono più o meno 19 voti tu assicuri al governo un sottosegretario ma allora diciamo se non fosse drammatica sarebbe esilarante questa partita di queste ore in cui ci sono almeno 90 persone che sono sicure che diventeranno sottosegretari ed è una partita diciamo che riposiziona al governo mi dispiace chiamarlo sottobosco perché poi però comunque diciamo le seconde file che sono tutte e completamente calibrate con il cencelli della politica quindi professor Cacciari si torna sempre alle regole base ma in questo caso per i sottosegretari guardi cerchiamo di essere realisti insomma la situazione italiana è quella che è è drammaticissima i posti fondamentali e la guida di questo governo è Draghi e Draghi gli altri sono contorno e non daranno soverchio fastidio si figuri i sottosegretari certo sono spettacoli un po' penosi ma insomma non incideranno sulla possibilità e sulla capacità del governo Draghi di fare quelle cose essenziali che ho detto ma che certamente non sono riformali in questo paese Draghi vuoi che ti dica in una battuta che cos'è Draghi e perché Draghi virgolette virgolette va bene perché dà fiducia alla gente in giro per il mondo dà fiducia e l'economia e tutto quanto ha bisogno di fiducia non c'è niente da fare dà fiducia e già adesso la presenza pure semplice di Draghi ci fa risparmiare svariati miliardi di costo del debito svariati miliardi queste sono le riforme che fa Draghi allora il pragmatismo non c'è da sognare se hai il numero uno e il migliore c'è da chiedergli poco professoressa Capo arriviamo a lei quanto è poco vaccinarsi allora mancano vaccini bisogna individuare posti nuovi per la vaccinazione di massa il problema è così semplice da risolvere ma allora come ha detto i nodi grandi sono due uno la disponibilità due la possibilità di distribuirli a temperature adeguate e somministrarle in maniera appropriata mi sembra di capire che come in tutto il resto del mondo anche in Italia ci sia un problema per la distribuzione il che veramente è un problema che non dovremmo avere che non vorremmo avere cioè noi dovremmo cercare di accelerare al massimo le vaccinazioni in modo tale da mettere in sicurezza quelle persone che andrebbero in ospedale qualora si infettassero con il covid e perché è importante tenere le persone fuori dall'ospedale perché fino a quando noi non riusciamo a porre una barriera di protezione alle nostre persone più fragili che continueranno ad andare in ospedale il paese non può ripartire quindi la priorità è non solo cercare diciamo nuovi contratti nuove flessibilità adesso io sinceramente non la conosco la situazione italiana però bisogna cercare di trovare vaccino in maniera diciamo addizionale abbiamo sentito prima è possibile riconvertire degli stabilimenti è possibile diciamo avere una produzione in breve tempo magari sul territorio nazionale o in altri stabilimenti europei quindi questa è una cosa che va vista e va fatta e poi usiamo tutti i posti possibili immaginabili per vaccinarci io devo dire ho ho trovato l'idea di Boeri della primula un'idea fantastica al di là del gazebo perché la primula poteva essere il diciamo il fiore della rinascita perché mostrava i posti dove ci si può vaccinare e sarebbe bello avere la primula sulle porte dei teatri sulle porte delle palestre sulle porte di tutti quei luoghi che devono essere attrezzati per vaccinare il più alto numero di persone possibili in sicurezza senta professoressa come le scegliamo queste persone perché le categorie che sono state individuate diciamo lasciano fuori molte persone importanti si pensava l'altro giorno ai supermercati le farmacie i commessi gli spazzini tutte persone che sono state tagliate fuori quali sono i criteri con cui si cercano le persone allora tornando a quello che abbiamo detto nella prima parte della trasmissione ricordiamoci che ogni giorno in Italia è come se ci fosse un incidente aereo ogni giorno questo è il numero di morti che noi abbiamo in più grazie al covid detto ciò chi sono la stragrande maggioranza di queste persone che muoiono sono le persone che hanno delle comorbidità noi stiamo abbiamo un grande progetto molto ambizioso con l'università Bicocca per studiare una corte di pazienti molto grande di diversi ospedali del nord Italia della Svizzera e di paesi simili al nostro per capire proprio quali sono le comorbidità che rendono più vulnerabili le persone e quindi le rendono più a rischio di finire in ospedale perché è importante capire questo perché noi non è che con questo giro di vaccinazione avremmo finito noi continueremo a vaccinare per parare diciamo l'ondata pandemica per molti mesi ma poi questo vaccino rientrerà nelle vaccinazioni che dobbiamo fare ogni anno come la vaccinazione anti-influenzale quindi è molto importante capire quali sono le nostre priorità di vaccinazione perché altrimenti gli ospedali non si vuotano Concita De Gregorio ci sono due livelli la gravità del momento non le cose che dice la professoressa capua e intanto delle forze che si sfaldano il Movimento 5 Stelle che subisce una scissione è un quadro che permetterà di affrontare questa gravità dei fatti il Partito Democratico che di fatto oggi Zingaretti apre verso un percorso che va verso il congresso a proposito di questo ti volevo dire Giovanni che oggi ho intervistato ho parlato a lungo con Antonio De Caro che è il sindaco di Bari che mi ha detto intanto una cosa interessante a proposito dei vaccini anzi mi ha ricordato che nel 73 quasi 50 anni fa Bari e Napoli vaccinarono un milione di persone in una settimana e però aggiungeva De Caro bisogna che ci siano i vaccini per il colera è facile vaccinare un milione di persone in una settimana se i vaccini ci sono e questo discorso la professoressa Capo riporta al tema della ricerca scientifica e dei tagli alla ricerca che abbiamo fatto perché noi avremmo potuto anche produrcelo il nostro vaccino se non fosse che negli anni abbiamo tagliato i finanziamenti alla ricerca ma tornando a quello che diceva prima Montanari io sono d'accordo che questo sia un governo diciamo Montanari il professor Cacciari cioè sono entrambi i professori scusate il professor Montanari e il professor Cacciari che farà sostanzialmente delle riforme essenziali che sono quelle di vaccinare le persone e distribuire i soldi del recovery però dico a Tommaso Montanari che le grandi riforme di cui lui parla e rispetto alle quali io sono d'accordo ce ne sarebbe tanto bisogno si scontrano con il fatto che la sinistra in questo paese negli anni ha dato prova diciamo di fenomeni come la scissione dell'atomo dividendosi e dividendosi ancora e polverizzandosi infine ma nessun governo neanche di centro-sinistra è stato in grado di fare quel tipo di riforme e oggi temo che l'identità del Partito Democratico costretto a governare con la Lega e con Berlusconi ne risentirà vedo Zingaretti in difficoltà e vedo il Movimento 5 Stelle diciamo in una situazione di come dire di grandissimo di grandissimo problema professor Cacciari la grande crisi è quella del Movimento 5 Stelle ovviamente insomma andare al governo con Berlusconi insomma cose di questo genere il PD le ha già sperimentate il patto del Nazareno è abbastanza vaccinato insomma se non un po' più vaccinato ha fatto il tampone che ne so è più in grado di tenerle i 5 Stelle sono le grane tremende la Lega ha trovato una sua linea perché appunto è prevalso una linea governativa Giorgetti Zaia eccetera quella linea governativa e Salvini si è adeguato il PD il PD va di rimorchio il PD va di rimorchio c'è poco da fare adesso speriamo il congresso non il congresso il fatto sta insomma che il PD è andato ha seguito la corrente e questo per un partito può aiutare a sopravvivere ma non certo alla fine a prevalere a vincere ad affermarsi ad affermare una strategia quali possono essere le conseguenze nel Movimento 5 Stelle invece professore poi Montanari le conseguenze le conseguenze già si vedono insomma c'erano le conseguenze per il governo indifferenti perché appunto che se ne vadano in 30 in 40 in 50 non cambia niente poi invece quando ci arriverà la prova elettorale possono essere anche catastrofiche perché appunto hanno cioè un partito che è passato dalla Lega al PD e poi adesso accetta Berlusconi in un governo e così via eccetera eccetera è diventato proprio dal punto di vista della sua identità qualcosa di impresentabile è chiaro e quindi chiaramente ci sarà uno sconcerto immagino un grande disagio e sarà importante quest'anno di governo Draghi perché se il governo Draghi dovesse proprio fare bene in quelle cose importantissime che ha da fare allora forse i partiti che hanno che hanno responsabilmente tra virgolette dato il proprio consenso alla formazione di questo governo anche a costo di qualche sacrificio potrebbero avere anche una tenuta ma credo che sarà molto dura per il Movimento 5 Stelle e il PD invece ormai sopravvive perché vede il problema è che il PD ormai ha una base elettorale che è governativa conservatrice meglio così che peggio la grande maggioranza dell'elettorato del PD è questo meglio così che peggio e così concita insomma sì anche per il PD governare con la Lega non è un problema del calibro di quello che hanno i 5 Stelle sono d'accordo con il professor Cacciari i 5 Stelle e Berlusconi sono veramente il diavolo e l'acqua santa cioè sono la ragione per cui si sono costituiti il Movimento 5 Stelle si è costituito in opposizione a quella a quella roba lì come dicono loro però anche per il Partito Democratico la linea di galleggiamento ma c'è anche Renzi al governo quindi sono tutti e due sì dicevano che questo che questo governo nasce nasca da un patto di Matteo Renzi e Matteo Salvini per riportare al governo la Lega insomma governare con la Lega anche per il PD rispetto all'elettorato del PD genera un certo sconcerto proprio di questo parlavo oggi con De Caro che le persone lo fermano per strada e gli chiedono ma chi siamo diventati poi uno può rispondere ci sono due cose da fare vaccinare le persone e distribuire il denaro del recovery lo facciamo tutti insieme e poi arrivederci grazie però non so se andrà proprio così e nel frattempo i partiti avranno perso qualcosa del loro elettorato del loro consenso Contanari chi paga il prezzo del governo? Ma allora si dice che Gianni Agnelli avesse detto al presidente Scalfaro al tempo di Ciampi che dopo il governo di un governatore della Banca d'Italia di un grande banchiere poteva esserci soltanto o un generale o un cardinale io vorrei dire che data la situazione spero che ci sia un cardinale perché così ci spostiamo un po' a sinistra visto che Papa Francesco è l'unica voce veramente di sinistra che in questo momento parli pensiamo alla faccenda dei vaccini abbiamo un problema non di distribuzione ma di produzione io ho fatto il vaccino come professore universitario l'ho fatto nel palazzetto dello sport a Firenze dove tutto funzionava in una maniera che ti riconciliava col paese solo che girava un decimo della forza a cui poteva girare perché non ci sono i vaccini ora il problema è possibile che l'umanità in questa circostanza si sia affidata a vaccini che hanno dei brevetti questa cosa che sul vaccino non ci poteva essere profitto non ci poteva essere il brevetto l'ha detto Francesco Papa Francesco molto tempo fa l'unica voce che ha detto guardate che da questa cosa non si esce con le logiche di mercato peraltro con un mercato finanziato dai soldi degli stati ma che generano profitto privato quello che che manca non è soltanto un partito di sinistra ma se non fosse per l'ottica di un lontano profitto quantomeno perché dovrebbero accelerare la produzione se i vaccini li avessero fatti direttamente gli stati con le università con la loro ricerca senza necessariamente passare dal mercato cioè ma nemmeno quando siamo sull'urlo della catastrofe riprendiamo in mano il nostro comune collettivo destino e pensiamo che quello che ci ha condotto a questo punto perché è evidente diciamo che questa pandemia ha molto a che fare con il degrado del pianeta con lo stile di vita che abbiamo riusciamo a cambiare idea cioè il problema della sinistra non è tanto la divisione quanto la perdita di visione di una visione e non è solo un problema italiano evidentemente cioè il fatto che da molti anni la sinistra si sia accodata come vanno le cose del mondo senza pensare che si potesse cambiare cioè che un altro mondo è possibile Gramsci diceva che la convenzione più difficile da abbattere è che tutto ciò che esista è naturale che esista così la sinistra dice beh bisogna solo oliare un po' il binario su cui il mondo va ma non è che si può pensare a un altro mondo Cacciari non chiediamoci troppo ma speriamo che almeno i vaccini li riescano a fare il discorso è questo Cacciari questo è un gran tema questo della ricerca sì è una situazione quella della diciamo sinistra per intenderci che da decenni ormai sulle questioni istituzionali sulle questioni di riassetto produttivo industriale sulle questioni dell'ambiente intese in tutta la loro complessità non ha una strategia si sa e la situazione è questa e ora siamo di fronte ad una crisi che accelera potentemente alcune tendenze che rendono ancora più difficile una ripresa di un discorso di visione alternativa perché questa pandemia farà tante cose combinerà tante cose ma soprattutto accelera tendenze prepotenti per un riequilibrio dei poteri economici finanziari a favore di certi interessi a favore di grandi multinazionali a favore di certi settori industriali eccetera eccetera cioè riassetta tutto a un livello e secondo una logica che renderà infinitamente più difficile la ripresa di una visione alternativa sulle questioni che prima si dicevano c'è niente da fare la situazione è questa è così professoressa Capua lei nel suo libro fa l'elenco di 11 virus che hanno cambiato la storia forse la cambierà in peggio questo ma guardi i virus sono qui con noi da sempre e noi siamo sempre venuti a capo siamo qui perché i virus li combattiamo il libro l'ho scritto per i ragazzi delle medie perché credo che questi ragazzi che attraversano un momento così difficile della loro vita volevo aiutarli a capire che i virus ci sono sempre stati però dobbiamo anche capire che ci sono tante persone in giro per il mondo che li studiano e che combattono queste infezioni che a volte possono essere delle vere piaghe piccola pausa possa essere un governo di destra c'è chi dice alla fine dopo le scissioni del Movimento 5 Stelle con tutte le discussioni all'interno del PD questa è una maggioranza che se conti i numeri è una maggioranza di centrodestra credo che bisogna misurarsi col programma che ha proposto il presidente Draghi che ha detto con chiarezza cosa fare e bisogna votare ha detto tra l'altro che intende coinvolgere le parti sociali quindi credo che i provvedimenti si misureranno per quello che vengono realizzati però lei che ha detto tanto perché lei ha detto riforma fiscale poi riforma fiscale guardi cartello 30 i temi economici della destra dalla flat tax ai ristori per tutti vediamo quali sono i temi del centrodestra abbassare le tasse flat tax pace fiscale ristori immediati riaprire tutte le attività il prima possibile sulla riforma fiscale ha parlato di una riforma che riduca l'IRPEF rimodulandola e ha parlato di mantenere la progressività sul sistema delle pensioni ha detto una lotta senza quartiere all'evasione fiscale e ha proposto di costituire una commissione che poi si coinvolge le parti sociali e il Parlamento quindi se sto a quei principi lì la lotta all'evasione la progressività e la riduzione dell'IRPEF che vuol dire far pagare meno tassi innanzitutto ai pensionati ai lavoratori dipendenti io penso che sia una base per quello che ci riguarda utile per iniziare una trattativa poi in questi giorni c'è stata l'audizione in Parlamento i sindacati le loro proposte le hanno fatte in più ha detto una cosa io credo importante cioè che ha parlato non di una riforma a pezzettini ha parlato di ragionare su una possibile riforma complessiva del fisco nel nostro paese quindi per me questo è il punto e questo per noi sindacato è una battaglia da fare nel paese però lo sa come si parte come si arriva e quando poi cartello 50 io non lo so dove si arriva io dico che noi giudicheremo per quello che si fa siccome saremo coinvolti le nostre proposte sono quelle se saranno diverse decideremo e faremo il nostro mestiere perché ne faccio vedere che bisogna saper volare sull'onda e l'onda cambia perché guardi il cartello 50 intenzioni di voto questa è una media fra vari sondaggi che sono stati fatti e là la Lega viene data più o meno sempre uguale il PD scende fratelli d'Italia sale parecchio i 5 Stelle scendono e tanto forse Italia sale e alla fine qua a me lo dico banalmente a me dei sondaggi adesso non me ne frega nulla lo dico in modo molto chiaro perché oggi il problema è se facciamo le vaccinazioni la sanità se blocchiamo i licenziamenti che investimenti facciamo e se facciamo le riforme quindi per me questo il resto mi sembrano chiacchiere che è ora di smettere Massimo Giannini sono chiacchiere la stessa domanda per Sallusti beh i sondaggi in questo momento forse sì lasciano un po' il tempo che trovano anche se ci danno alcune indicazioni importanti è abbastanza secondo me scontato che i partiti diciamo responsabili che lo sono stati fino adesso anche col Conte 2 mi riferisco soprattutto al PD soffrano un pochino di più perché ovviamente anche in un quadro così mutato nel quale torna a governare il Paese un tecnico in condizioni di assoluta emergenza e il Partito Democratico è ancora lì una volta a fare il Cireneo che canta e porta la croce ovviamente sconta qualche cosa dopodiché è chiaro che il perimetro della maggioranza è molto vasto questo rende da un lato complicata la sintesi che Draghi deve operare però per contro è anche vero che per esempio sulle materie economiche fermi restando alcune incompatibilità apparenti e la flat tax e i condoni che la Lega vuole sono una di queste poi però per il resto più è vasta la platea di quelli che devi mettere d'accordo e più Draghi ha agio per muoversi in autonomia io penso che il manifesto chiamiamolo così che Draghi ha esposto sull'economia e sul fisco nel discorso programmatico rifletta quello che lui stesso considera la sua matrice politico-culturale ideologica lui ha detto a Di Zait in un'intervista di alcuni mesi fa che la sua è una formazione liberal-socialista mi pare che l'impianto economico che ha accennato in quel discorso rifletta un po' questa cultura tanto più Alessandro Sallusti dice Giannini mettono i partiti dei paletti forti duri invalicabili tanto più Draghi avrà la possibilità di passarci in mezzo è così? Sì non dobbiamo confondere la propaganda legittima perché in politica la propaganda è legittima non dobbiamo confonderla poi con atti conseguenti politici io penso che questo non sarà un governo di destra primo perché non c'è una maggioranza chiara di destra in Parlamento secondo perché Draghi come ha appena detto Giannini non è di destra nel senso politico della parola e non è di destra il contesto europeo e internazionale nel quale Draghi intende muoversi prendiamo atto che il centro-destra italiano dopo dieci anni praticamente torna a influire sulla politica e questo è un bel passo avanti torna a influire sulle decisioni torna a influire sull'attività del governo se pensiamo dove era il centro-destra solo tre o quattro anni fa cioè ai margini della vita politica italiana credo che sia un bel risultato professoressa Fornero spostiamoci dalle impalcature ideali o valoriali alle cose concrete questa è la foto di Matteo Salvini con la maglietta io apro il governo che sembra che affronti il covid con più o meno la linea che aveva avuto il governo Conte la durezza o rafforzare le zone rosse rafforzare le zone arancioni è una parte importantissima il partito più importante che lo tiene che si schiera con i ristoratori che manifestano io apro quanto si pagherà questa contraddizione professoressa Fornero in effetti è difficile definire valoriale l'elenco primo elenco che lei ha fatto vedere che a me sembra un insieme di obiettivi tra di loro non compatibili Salusti ha definito propaganda io direi continuare nella propaganda delle illusioni e questo è pericoloso se c'è una cosa che questo governo dovrebbe fare dovrebbe essere il governo della verità allora della riforma c'è bisogno per quanto riguarda il fisco e deve essere progressiva su questo non ci piove sta nella costituzione e sta nel buon senso di chiunque ce l'abbia e poi aprire le attività produttive ma tutti lo desideriamo ma le apriamo per chiuderle una settimana dopo se non ci sono le condizioni quindi bisognerebbe in effetti anche soprattutto quando si sta nel governo smettere di fare propaganda e io credo che i ministri della Lega la propaganda la conoscano e non la vogliano fare sanno benissimo perché Giorgetti che ha a che fare con le crisi del paese la crisi dell'Italia la crisi dell'Ilva sa bene che lì non si possono più illudere le persone sa bene che lì i nodi ci sono e bisogna usare intelligenza prudenza e anche verità però guardi professoressa anch'io sono contro la propaganda però la politica è la propaganda è una parte della politica ma nel senso nobile della parola pensiamo il partito comunista la democrazia cristiana eccetera eccetera lei ha avuto la fortuna di poter non fare lei ha avuto la fortuna di poter rispondere solo al presidente Monti perché non aveva un partito non aveva degli elettori al paese ma al paese io ho cercato di rispondere al paese sì ma non so se riesce a intendere quello che voglio dire lei non aveva un bacino elettorale a cui stare attenta e cercare di assecondarlo anche nei suoi impulsi meno nobili ma lei non crede che la politica possa migliorare questa politica che abbiamo avuto in questi anni è pessima però la politica non sono dei tecnici la politica non sono dei tecnici no no ma si può essere di buon senso anche in politica si può usare la verità anche in politica e allora forse la politica sarebbe un po' meglio ma sa qual è Evelina Cristillenne il problema che poi ci sono momenti di scelte prendiamo il blocco dei licenziamenti non tema che ora discuteremo con Landini e che naturalmente è caro alla CGL prendiamo il caso all'Italia tra la settimana all'Italia finisce i soldi il blocco di licenziamento scade il 31 marzo Orlando mica ha detto che lo proroga quanto può ottenere un blocco dei licenziamenti generalizzato e quando ci sarà da scegliere chi si salverà e chi rimarrà sotto Evelina Cristillenne Landini Giannini ma è difficilissimo dire i sommersi e i salvati l'ha scritto già qualcuno in tempi ancora più drammatici di questi io credo che il blocco dei licenziamenti sia una cosa sacrosanta in questo periodo così come lo sarà lo deve essere il prolungamento della cassa integrazione guardi oggi io ero in piazza anche se può sembrare strano con visto chi sono io eccetera eccetera che fossi in piazza a manifestare ma ero in piazza a manifestare perché c'erano in piazza della gente e i lavoratori dello spettacolo erano in particolare quelli della cultura in generale che sono autonomi non si può con loro né parlare di licenziamenti né parlare di cassa integrazione perché questi non hanno niente allora la verità la vogliamo dire che o si danno dei ristori ma non solo dei ristori dei modi per vivere a quelle categorie che non sono neanche tutelate per Doni Landini dal sindacato o dal datore di lavoro o dal governo perché i sommersi sono prevalentemente questi qua oggi c'era in piazza della gente che non ha i soldi per mangiare quindi certo sacrosanto tenere a bordo chi non può e non deve essere licenziato e chi può continuare ad avere una cassa integrazione in deroga o non in deroga è chiaro che il debito aumenterà ancora però quello che ha detto Draghi mi sembra sia che ha messo un debito buono ora io mi occupo di economia da molto tempo so cosa vuol dire il debito buono vuol dire un debito fatto in conto capitale per degli investimenti che poi frutteranno per i nostri giovani per la scuola per la formazione per la produzione se è a pioggia a caso non va bene l'esempio classico l'abbiamo fatto più volte una cosa è indebitarsi per comprare un gelato una cosa per comprare una vanga e mettersi a lavorare però Landini c'è chi sta male ma c'è anche chi sta bene cartello 31 aumento dei ricchi allora il patrimonio dei 40 miliardari italiani è aumentato i 137 miliardi durante la crisi cartello 32 in solo anno in Italia ci sono oltre mezzo milioni di poveri in più e le disuguaglianze sono aumentate in pochi mesi uno schema semplice i soldi stanno tanti da una parte e pochi dall'altra è la ragione per cui bisogna fare una serie riforma fiscale che deve essere progressiva e che deve affrontare il problema della capacità contributiva come dice la nostra Costituzione che vuol dire che vuol dire che ognuno deve pagare in base a quello che prende quello che ha la Costituzione dice capacità contributiva la dice precisa dice che deve essere progressiva quindi abbiamo la possibilità di fare una riforma perché come dice lei sono aumentate le disuguaglianze i ricchi sono ancora più ricchi e c'è gente che povera anche lavorando aggiungo che anch'io stamattina ero in piazza Roma con i lavoratori dello spettacolo perché ci siamo anche noi assieme a loro ero davanti al teatro dell'opera e vorrei far notare che se quei lavoratori lì che sono ancora purtroppo chiusi perché i teatri e i cinema e lo spettacolo dal vivo purtroppo ancora non è partito noi stiamo discutendo con il governo di estendere quelle indennità che comunque ci siamo inventati per coprire anche quei lavoratori e col ministro Orlando che ci siamo incontrati la domenica 14 di febbraio appena era stato eletto entro il mese dobbiamo incontrarci non solo per prorogare il blocco dei licenziamenti come noi abbiamo chiesto ma anche per definire la riforma degli ammortizzatori sociali per arrivare ad un sistema universale di ammortizzatori sociali quindi questi sono temi che stiamo discutendo oggi con il nuovo governo che c'è con il nuovo ministro del lavoro come e a chi dare il denaro si discute hanno le posizioni Landini ne avranno altre ma da dove arriva questo denaro il problema perché il recovery fund praticamente l'abbiamo già finito ancora prima di prenderlo se intendiamo spenderlo così e invece cartello 33 Giannini il risparmio degli italiani ci sono 1700 miliardi fermi sui conti degli italiani 149 miliardi in più in un anno e allora qualcuno dice guardate non è che si finisce al cartello 34 patrimoniale in Italia sono già patrimoniali come IMU seconda casa bollo sui conti correnti volendo mettere un'altra tassa si potrebbe fare dicono gli esperti un prelievo sui conti correnti come fece un altro tecnico barra politico in tempi di un'altra crisi che portò a un governo molto simile per alcuni aspetti a quello Draghi nel 1992 Giannini Sallusti allora nell'ordine io mi attengo molto a quello che ho sentito dire dal presidente del consiglio nel suo discorso programmatico non credo che Draghi proprio per le ragioni politico-culturali di cui parlavamo prima farà macelleria sociale per essere chiari al 31 marzo quando scade il blocco dei licenziamenti io credo che questo sarà prorogato Draghi ha detto una cosa molto chiara sotto questo profilo e cioè noi dobbiamo tutelare tutti i lavoratori che perdono l'occupazione ma non possiamo continuare a proteggere tutte le attività produttive comprese quelle che non hanno mercato questo fa tutta la differenza del mondo e si riallaccia a quello che diceva un attimo fa Landini e cioè da un lato appunto il blocco dei licenziamenti va prorogato dall'altro lato va costruito uno strumento di tutela universale che riguarda tutti coloro che perdono il lavoro e questo noi non ce l'abbiamo ed è fonte di enorme sperequazioni nel nostro mercato purtroppo è un lavoro di lunga lena ma bisognerà cominciare a farlo l'altro fronte è quello fiscale io non credo che Draghi farà ricorso alla patrimoniale perché quello che serve in realtà intanto un po' perché già c'è la patrimoniale la seconda cosa è che per riuscire a scongelare quei 1600 miliardi aggiuntivi di risparmi che gli italiani hanno deciso di mettere in frigorifero bisogna ricostruire la fiducia perché è quello il vero motivo per il quale poi è cresciuto così tanto il tasso dei risparmi la gente non spende più perché non si fida ha paura e quindi la prima riforma da fare è ricostruire la fiducia la riforma fiscale serve a questo la riforma fiscale serve a questo io dico sono d'accordo con la parola che usava la dottoressa Fornero prima è il momento di dire la verità delle cose questo paese come stanno e di smetterla con la propaganda il problema della riforma fiscale se si fa bene ci vuole un po' di tempo deve essere una discussione molto larga non c'è un provvedimento che risolve intanto mentre si discute servono soldi allora la dicono intanto faranno una patrimoniale o un condono forse per partire bisogna farli entrare ma ci può fare una lotta all'evasione fiscale molto seria si può allargare la base imponibile in più ci sono i soldi europei che vanno investiti guardi il problema hanno votato Draghi vorrei che fosse chiaro se no si assumono altre responsabilità hanno votato tutti i Draghi sul programma che Draghi ha presentato che vuole discutere anche con noi io chiedo al governo perché l'abbiamo già chiesto che discuta anche con le parti sociali che discuta anche col mondo del lavoro è chiaro e lo dico con chiarezza la flat tax noi non siamo d'accordo e non serve ai lavoratori e non serve a questo paese allora Salusti e poi Fornero prego Salusti io penso io penso che dell'operazione verità dovrebbe far parte anche il concetto che le riforme costano non esistono riforme a costo zero e allora io credo che c'è un'occasione straordinaria in questo paese non so se Draghi avrà il coraggio o la forza l'intenzione di farla ma se lui facesse la riforma del fisco la riforma del lavoro la riforma della giustizia la riforma della scuola e tutto quanto e per ultimo dice signori tutto questo ha un costo c'è bisogno della patrimoniale io alzo la mano e mi offro volontario purtroppo il mio obolo è piccolissimo ma credo che milioni di italiani sarebbero disposti a pagare per far vedere funzionare questo paese e quindi parlare di patrimoniale senza parlare di riforme invece è inutile e anche addirittura è stupido però professoressa quando si parla di riforma fiscale non si parla di qualcosa a costo zero come giustamente dicevate faccio un esempio cartello 37 cosa chiede l'Europa cosa ha chiesto anche la banca centrale europea più volte riformate il catastro perché magari ci sono case in centri storici che sembrano case popolari e che invece sono diventate importantissime se ne parla da decenni ma aggiornando ai valori di mercato ci può essere una possibile crescita dei valori che a tastare dal 30 al 180% e quindi vuol dire che sale l'IMU che le tasse la compravendita la tasse i rifiuti questa è una riforma fiscale che si dà per scontata in Europa beh ma di nuovo vale il concetto che Draghi ha espresso che la riforma fiscale non si può fare a pezzi e bocconi dicendo oggi si fa questo e domani si fa quell'altro a seconda di come emergono i bisogni senza considerare che ci sono equilibri da raggiungere perché a ragioni non si allusti e se posso permettermi io ci ho pure scritto un libro riforme a costo zero non esistono perché qualcuno è sempre chiamato a cambiare qualche cosa che avrebbe preferito fosse così o a pagare di più benissimo questo lo sappiamo le riforme in generale sono scomode e anche quella fiscale sarà scomoda ma se volete una mia piccola profezia io credo che Draghi non farà condoni perché se no comincerebbe come tutti gli altri governi del passato forse tranne il governo di cui io ho fatto parte comunque come molti governi del passato in modo pessimo non farà certamente una riforma fiscale del tipo flat tax perché questo sarebbe sconfessare tutto quello in cui crede quindi se farà una riforma fiscale e io glielo auguro e poi anche altre riforme ma non è mandrà che i commentanti adesso cominciano a dire quindi non potrà fare tutto soprattutto considerando che non ha davanti tutta una legislatura e allora quello che potrà fare è impostare le cose molto seriamente dicendo la verità agli italiani non illudendoli più perché se ci sono di nuove illusioni poi si cade diciamogli la verità allora Landini che cartello 39 qua a breve si torna alla legge Fornero e allora come ne uscite fate una quota 102 64 anni di età più 38 di contributi una quota 41 41 anni di contributi indipendentemente dall'età o si torna alla legge Fornero noi abbiamo anche su questo posto al ministro del lavoro la necessità di discutere noi abbiamo avanzato le proposte noi pensiamo che dall'età di 62 anni bisogna rendere flessibile l'uscita e pensiamo che con 41 anni di contributi si possono andare in pensione ma qui c'è anche il tema che riguarda i giovani quindi una pensione contributiva per i giovani e c'è il problema che affronta anche la questione del lavoro femminile delle donne e della differenza di genere e insisto c'è un altro tema che non giriamoci attorno che va affrontato e lo si può affrontare in tempi abbastanza rapidi che è quella usando il digitale l'incrocio delle banche dati tutto quello che è possibile fare oggi è la lotta all'evasione fiscale non scordiamoci che noi abbiamo 110 miliardi di evasione fiscale nel nostro paese non è che viviamo da un'altra parte quindi questo è un altro tema che va affrontato il contesto si allarga sempre ma qua a breve a pochi mesi c'è quello che lei l'altra volta ha chiamato lo scalone Salvini cioè si torna alla sua legge perché quota 100 durava solamente un periodo limitato e adesso si esaurisce e là che si fa? Guardi introdurre la flessibilità è sacrosanto e diciamo che nel sistema pensionistico che avrà finito la transizione dalle formule a beneficio definito cioè abbastanza generose del passato generose con gli attuali pensionati ma severe con i futuri pensionati severi con i giovani quando questo sarà finito l'età di pensionamento sarà flessibile da 63 a 70 anni perché ciascuno si prenderà quello che ha versato tenendo conto dell'aspettativa di vita e questo farà sì che in generale le regole siano eque e se c'è qualcuno che è stato sfortunato lo si aiuta io credo che questo sia un principio buono come si arriva lì? Si arriva lì dicendo vuoi flessibilità e un po' la paghi certamente si può anche tener conto della differenza di fatica nel lavoro e questo si sarebbe anche potuto fare negli anni passati se non si fosse voluto mantenere diciamo la riforma Fornero per far gravitare su questo tutti i mali del paese e questo è stato Io credo che il tema del lavoro usurante del lavoro gravoso e soprattutto l'aspettativa di vita non è uguale per tutti dipende dal lavoro che fai quindi queste differenze vanno introdotte non si può come adesso avere regole uguali per tutti servono regole che siano anche differenziate per il lavoro che fai e questo è l'elemento che va fatto Ma Giannini cartello 38 guardate che la pandemia non ha degli effetti solo sulla salute o solo psicologici come stiamo vivendo tutti ha anche questo effetto cartello 38 secondo alcune stime nel 2020 il deficit dell'Inps dovrebbe schizzare a 37 miliardi il dato più alto negli ultimi 32 anni Giannini Beh l'effetto Covid l'effetto Covid sulle casse dell'Inps ha avuto un impatto devastante un aumento del deficit nell'ordine dei 17 miliardi quindi questo è un dato di fatto la cosa importante secondo me qualunque sarà io spero che bada nella direzione che diceva la professoressa Fornero la ulteriore riforma che Draghi imprimerà al sistema è che però si tenga davvero conto una volta per tutte e anche qui mi pare che Draghi ha dato un'indicazione piuttosto netta delle priorità della necessità di venire incontro ai bisogni dei giovani che sono stati i veri dimenticati degli ultimi dieci anni mi spingo a dire a partire proprio dalle riforme fatte anche dal governo Monti è vero che era una situazione completamente diversa è vero che avevamo la rivoltella dei mercati puntata sulla nostra tempia quindi bisognava fare misure drastiche immediate severe è vero però che da allora il mantra dell'austerità ci ha continuato ad accompagnare per diversi anni e alla fine l'hanno pagata soprattutto i giovani quindi io dico che anche dal punto di vista dell'approccio alla riforma della previdenza la priorità dovrà essere quella giovani e poi anche donne piccola pausa e si torna al virus allora 11 e mezza adesso torneremo a parlare dell'emergenza covid ma prima le notizie Laura Gobetti sì da Ciampino è atterrato il volo di Stato che arrivava dal Congo con le salme dell'ambasciatore Luca Tanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci a bordo c'erano anche i familiari dell'ambasciatore la moglie e le figlie ad accoglierli non c'era Mattarella per un leggero malore c'era invece il presidente del Consiglio Draghi e i ministri degli esteri e della difesa Guerini e Di Maio buonasera benvenuti Beatrice Lorenzin partito democratico già ministro della salute Alessandro Barbano editorialista Huffington Post vice direttore del Corriere dello Sport benvenuta Marta con l'op potere al popolo in collegamento Sergio Rizzo vice direttore della Repubblica Pietro Senaldi il direttore di Libero e sempre con noi Barbara Gallavotti bentornata in studio dottoressa Gallavotti allora l'obiettivo di tutti i paesi è arrivare a proteggere il prima possibile le popolazioni attraverso i vaccini battendo sul tempo il virus prima che compaiano le varianti si possono fare previsioni su che tempi implica questo ragionamento qualcuno le ha fatte non sono giunti a risultati molto incoraggianti guardiamo per esempio la proiezione dell'Economist e vediamo che secondo questa ipotesi l'Europa e gli Stati Uniti arriveranno a vaccinare tutti coloro che vogliono vaccinarsi entro il 2021 e già ci sembra un obiettivo abbastanza ambizioso bisogna che ognuno possa avere tutti i vaccini che prevediamo di avere riuscire a mantenere dei ritmi molto sostenuti poi nella prima metà del 2022 dovrebbero arrivare la Russia il Canada l'Australia il Giappone e così via bisogna aspettare la seconda metà del 2022 per vedere la Cina e l'India l'India è un importante produttore di vaccini la Cina ha sviluppato diversi vaccini ma sta restando indietro nella somministrazione e poi bisogna aspettare il 2023 per vedere il Centrasia il Sud-Est Asiatico parte dell'America Latina e l'America Centrale e buona parte dell'Africa vuol dire due anni da adesso c'è un sacco di tempo purtroppo perché il virus si diffonda e si sviluppino varianti Onorevole Lorenzin noi avevamo detto che bisognava arrivare a 6 milioni di persone entro marzo è saltato? Beh diciamo che secondo me potremmo anche andarci vicino oggi arriviamo arrivati al 4% della popolazione il vero tema dell'Italia non è tanto la capacità organizzativa nel vaccinare facciamo un esempio 50 mila medici di medicina generale se ognuno di loro fa 10 vaccini al giorno parliamo di quello di AstraZeneca o Johnson & Johnson siamo a 500 mila vaccini al giorno soltanto fatto dai medici di medicina generale in più i centri vaccinali i grandi stadi le fiere che si stanno realizzando e su cui per esempio oggi si stanno vaccinando gli ottantenni nel Lazio abbiamo avuto 90 mila vaccinati ottantenni oltre ottantenni in questi giorni quindi secondo me non è un problema di organizzazione di macchina quanto piuttosto se si mantengono i parametri che abbiamo se i parametri sono quelli che ci hanno detto cioè le forniture vengono garantite noi dovremo riuscire ad avere 20 milioni entro il mese di giugno quindi dovremo riuscire a mantenere questo standard di vaccinazione ovviamente qui l'incognita rimane sempre la fornitura della materia prima la fornitura e in qualche insura la produzione Senaldi prego prima domanda secondo me sulla nostra capacità di organizzazione non è stata testata perché non ci sono i vaccini quindi sì mi auguro che fino a prova contraria abbiamo capacità di organizzazione ma è come giudicare un esercito prima che sia scoppiata la guerra la verità è che non credo per colpa del governo ma quanto piuttosto per colpa dell'Europa a cui il governo si è affidato mani e piedi e forse questo è stato l'errore e qui scarseggiano i vaccini e quindi scarseggiano i vaccini il governo prosegue con la strategia delle chiusure e perciò io vedo questa la mia diagnosi e non posso essere molto soddisfatto adesso dovevamo essere chiusi per passare un bel Natale poi abbiamo fatto il Natale in casa per passare un buon Carnevale adesso chiudiamo per passare una buona Pasqua ma io temo che non passeremo una buona Pasqua e questa è la domanda che faccio alla Lorenzini allora c'è un piano teorico è chiaro che adesso si chiude fra un mese ma poi allora c'è un piano teorico che dice beh ma se tutto va noi riusciamo a uscirne però non va lo sanno tutti e dice Senaldi alla fine è l'unico piano reale che si chiude ma innanzitutto guardiamo cosa sta succedendo intorno a noi l'Inghilterra che ha i vaccini non è aperta l'Inghilterra è chiusa ha un piano a quattro tappe ha un piano a quattro tappe dove aprirà i ristoranti tra un mesetto poi aprirà le palestre e arriverà ad aprire a luglio nonostante stiano vaccinando entro luglio tutta la popolazione e hanno già detto però badate bene dovete mantenere tutte le misure di sicurezza i due metri di distanza e via dicendo in Germania in questo momento c'è un lockdown che sta continuando allora cosa significa questo noi dobbiamo dire la verità alle persone non quello che noi possiamo desiderare la verità è che noi dobbiamo cercare di contenere le varianti soprattutto quelle che possano esploderci in faccia nel giro di poche settimane contenere le varianti quelle di cui non abbiamo ancora la certezza delle resistenze c'è la brasiliana e la sudafricana che sono presenti nel nostro territorio e nel frattempo fare di tutto per vaccinare il più numero alto di persone possibile allora torniamo un po' da Senaldi Marrizzo c'è un dato che su questo tema il governo Draghi si gioca se non tutto moltissimo perché chiaramente è la prima cosa che si chiede a un governo nato per l'emergenza per ricordare di che si tratta di che emergenza si tratta guardate il cartello 11 allora qui abbiamo fatto un calcolo su quanto il covid abbia inciso sulla mortalità italiana in sostanza è come se nel 2020 ogni giorno si fosse verificato un incidente aereo guardate 240 eccessi in più dovuti al covid rispetto alla media degli anni passati praticamente un incidente aereo al giorno Sergio Rizzo quanto si gioca Draghi su questo poi con Lott Barbano? Si gioca tutto si gioca tutto perché perché lui sa benissimo che se non non si dà una botta decisiva ai contagi la ripresa economica ce la scordiamo quindi questo e lui lo sa benissimo lo sa al punto che nel suo discorso di insediamento al Senato ha proprio spiegato che bisogna cambiare registro anche sul piano di vaccinazione quando ha detto dobbiamo mettere in campo l'esercito la protezione civile ha delineato un piano straordinario di vaccinazione anche perché detto con grande franchezza io adesso non so la nostra preparazione il nostro apparato ma io non vedo questa grande informazione io per esempio che non sono un ragazzino non so minimamente non ho la più palida idea di quando toccherà a me no non sono stato non ho nessun tipo di canale di informazione per capire quando dove e come sarò vaccinato lo stesso i miei familiari questa è una cosa abbastanza singolare e io credo che qui c'è un'altra volta ancora una volta ripeto l'ennesima volta mi sono anche un po' stufato qui c'è il problema delle regioni perché io sono sicuro che ci sono delle regioni dove la vaccinazione procede abbiamo visto il Lazio procede anche abbastanza bene ma sono altrettanto convinto che ci sono delle regioni dove è un disastro allora una cosa però ci arriviamo io immagino immagino vorrei vedere vorrei vedere i dati della Calabria per esempio allora proviamo a recuperare in tanti dati della Calabria e onorevole Lorenzin è vero come si viene a sapere quando ti tocca e più o meno quali sono gli schemi in questo momento abbiamo la certezza di quello che accade dagli 80 anni diciamo in su dopodiché toccherà dagli 80 anni in giù ma sarà il proprio medico anche attraverso i medici di medicina generale gestiranno dai 65 anni in giù io credo che alla fine i medici di medicina generale gestiranno dai 75 in giù così a naso allora per dirla chiaro ora bisogna andare nel sito e scriversi esattamente oppure te lo fa il medico il tuo medico in più ci sono le categorie quindi per esempio in questo momento vengono chiamati gli insegnanti poi le forze dell'ordine poi c'è tutto il tema dei pazienti fragili vengono chiamati attraverso la propria struttura esattamente insegna in una scuola e la scuola a fargli sapere esattamente dopodiché tu c'hai i fragili che è l'altra grande questione i pazienti con vulnerabilità che sono moltissime persone immunodepresse di qualsiasi età queste hanno un'altra corsia e chiunque non sappia incasellarsi in una rete deve rivolgersi al medico di famiglia Barbano prego domanda o intervento io credo che noi dobbiamo ben selezionare quella che è la fascia di mortalità perché volevo chiedere la mortalità è collocata tra i 60 anni in su e nei 2 milioni di persone vulnerabili quindi se noi riusciamo in questi 3 mesi a fare quello che ha fatto un po' la Gran Bretagna cioè a vaccinare le persone a rischio noi possiamo tranquillamente scendere sotto i 100 morti al giorno e la pandemia diventa un fenomeno gestibile oggi l'Inghilterra come diceva giustamente Senaldi ha un piano per la riapertura che però è l'8 marzo le scuole il 12 aprile i ristoranti il 21 giugno i teatri e i cinema però ha una chiarezza perché un mese fa due mesi fa l'Inghilterra aveva 1200 morti al giorno e 60.000 contagi oggi è sotto i 10.000 a 200 morti al giorno quando noi riusciamo a riportare la mortalità dentro una fisiologia attraverso i vaccini io penso che la pandemia diventa una malattia gestibile e dobbiamo affrontarla come altre patologie che hanno una mortalità molto stretta allora dottoressa Gallavotti il ragionamento di Barbano e se ci spiega anche il mistero dell'autoproduzione dei vaccini prego allora io credo che ci sia sicuramente bisogna proteggere al meglio e tutelare al meglio le persone che sono fragili che corrono più rischi con la malattia ma c'è un'amplissima fascia di popolazione sostanzialmente quella che va dai 18 anni che sarebbe proteggibile con Moderna e con AstraZeneca fino a e anche con Pfizer fino ai 60 65 che comunque si può infettare può avere delle conseguenze gravi della malattia e può diffondere perché è la fascia che fa più vita attiva quindi quella non è una fascia che va trascurata credo quella è una fascia che comunque in qualche modo deve aiutare a contenere l'epidemia anche perché è vero che ci sono le vittime ma ci sono pure le persone che si ammalano e che hanno conseguenze a lungo termine e queste sono anche fra fasce di età più giovani quindi io non farei tanto l'errore di dire beh proteggiamo gli oltrettantenni gli oltrettantenni e gli altri anche se si ammalano pazienza perché abbiamo visto che non è così per quello che riguarda la produzione dei vaccini cioè prenderla in franchising diciamo cioè questo è il vostro vaccino ma ce lo produciamo noi in Italia e lo prendiamo direttamente noi e sì però dovremmo avere le strutture per produrlo allora ogni vaccino ha bisogno delle strutture dedicate e speciali per produrre quel vaccino lì bisogna fare l'RNA se è un vaccino l'RNA macchinari proprio dice lei dei macchinari appositi sì macchinari e l'impianto di produzione per fare quel vaccino lì e non è una cosa che si improvvisa allora io credo che sia giusto pensare a cominciare a procurarcelo perché poi il problema della mancanza dei vaccini non è un problema italiano è un problema mondiale e se non altro europeo e io credo che come Europa siamo deboli nella produzione del vaccino quindi pensiamoci effettivamente a produrlo aspetti Marta Collotte le sue riflessioni quanto dietro tutto questo impegno c'è di concretezza e quanto di propaganda dal suo punto di vista ma a me sembra che rispetto appunto alla questione dei vaccini a parte il fatto di dire adesso diventa qualcosa di gestibile gestibile con che conseguenze perché comunque stiamo arrivando a 100 quasi 100.000 morti insomma a me non sembra che sia tanto gestibile questa situazione e poi rispetto ai vaccini secondo me il grosso tema è la questione del pubblico perché il problema grosso è che noi oggi in Italia non possiamo produrli ma in realtà non vogliamo produrli e questo perché è tutto in mano a delle grosse multinazionali e ai profitti che ci stanno dietro allora io non vedo perché ancora oggi un paese ad esempio come Cuba è in grado di produrre di aver sviluppato e prodotto un vaccino nonostante 60 anni di embargo e uno tra i paesi tra i dieci paesi più industrializzati al mondo invece oggi abbia il problema e non si ponga la questione di anche violarli i brevetti perché se c'è bisogno si violano i brevetti se c'è bisogno si riconvertono le industrie farmaceutiche la replica di Gallavotti poi vi do il dato sulla Calabria prego su Cuba io vorrei dire che il vaccino non ce l'hanno ancora lo stanno sviluppando forte di una grossa sforzo nella medicina che è tipico di Cuba però purtroppo il vaccino non ce l'hanno ancora è un'intizia di questi giorni che però si accingono a produrlo beh sono in fase 1 se non sbaglio che vuol dire parlando di una piccola isola dopo 60 anni di embargo vuol dire che è una speranza di vaccino sono 320 al giorno quanto l'Italia hanno una popolazione che è molto minore dell'Italia abbiamo un vaccino italiano che speriamo a giugno sia disponibile poi sulla produzione invece potremmo avere noi una nostra fabbrica cioè investire su questo nei prossimi anni e chiedere alle aziende che già producono vaccini in Italia di fare contratti per poter cambiare le loro linee e produrli anche qua per noi e per gli europei allora Rizzo in Calabria somministrate circa 84 mila dosi su 152 mila disponibili il 55% il dato più basso d'Italia la più virtuosa è la Valle d'Aosta con il 91% delle dosi somministrate prego domanda ma c'è una curiosità che mi è venuta mi è venuta guardando dei dati cioè noi se non sbaglio abbiamo avuto fino adesso qualcosa come 4 milioni e mezzo di dosi di vaccini e ne abbiamo somministrati 3 milioni e 200 mila o 3 milioni e 300 mila adesso vado a memoria e mi è venuta la curiosità di capire perché c'è questa differenza cioè perché noi abbiamo 1 milione e 300 mila dosi di vaccini che non abbiamo ancora somministrato non l'abbiamo fatto perché c'è la seconda dose ad alcuni che bisogna dare oppure perché ci sono disfunzioni di altro tipo tipo Calabria da quello che io so per la seconda dose quindi si tengono perché bisogna per avere la certezza di avere richiamo però dottoressa Gallavotti si dice pure che forse si può evitare questo richiamo e fare una prima somministrazione a tutti per abbassare la curva e poi quando arriveranno fare il secondo è così? e questo è quello che hanno pensato di fare in Inghilterra in Inghilterra sono arrivati a somministrare almeno una dose di vaccino quasi a un quarto della popolazione totalmente vaccinato una persona su 100 ed è stata una scelta di emergenza perché la soluzione giusta che era quella di somministrare le dosi a distanza giusta non avevano abbastanza vaccini sembra quasi che alla fine siano stati favoriti dall'emergenza in Inghilterra dall'aver aggravato la situazione e hanno dovuto prendere delle scelte magari un po' avventate ma che sono risultati? sicuramente è stata una scelta avventata io credo che il risultato finale ancora non ce l'abbiamo chiaro sempre si gioca a fine a fine li fai continuare allora Senaldi cartello 41 guardate le dosi bloccate di cui parlavate allora le dosi inutilizzate di vaccino in possesso delle regioni sono circa il 20% di quelle che avevano complessivamente a disposizione Senaldi direi che se non ci fosse da piangere ci sarebbe da ridere perché noi ci ricordiamo che un mese e mezzo fa il dibattito era convinciamo tutti gli italiani a vaccinarsi perché gli italiani non vogliono vaccinarsi adesso che li abbiamo convinti tutti non abbiamo le dosi consentimi di dire anche questo tu ti ricorderai che un anno fa il virus arrivava da Wuhan ma chi lo chiamava cinese era razzista adesso pur di far tenere gli italiani a casa lo possiamo chiamare nigeriano inglese brasiliano tutto diciamo fa brodo allora io vorrei capire questo dalla Lorenzin se l'Inghilterra che è più avanti di noi torna a vivere a giugno noi che abbiamo vaccinato una quindicina di milioni di persone in meno degli inglesi e più o meno abbiamo la stessa popolazione quando è che torniamo a vivere? quando avremo vaccinato come loro però vorrei dire un'altra cosa Senalli questa non è una risposta è una risposta che viene naturale vorrei dire un'altra cosa loro noi siamo diciamo abbiamo avuto questa dimensione a fasce di chiusure mentre loro sono in un lockdown totale totale quindi loro hanno dovuto avere un lockdown totale che dura da mesi ma noi siamo invece diciamo procedendo un po' con fatica ovviamente ma non con quella dimensione di chiusura totale che hanno loro Collotte voleva chiederle nel frattempo perché le conseguenze del virus non sono solamente conseguenze mediche sono anche conseguenze economiche sociali economiche su questo non mi sembra che sia stato fatto niente su questo fino ad oggi si è provveduto con i ristori brutti sporchi e cattivi ma quello è stato vediamo cosa farà adesso il governo Draghi e se metterà diciamo a disposizione risorse in un modo diverso con una diversa strategia questo ancora non lo sappiamo allora per Barbano la domanda è ma come le scegliamo le categorie che sono per rischio perché ad esempio c'è gente che lavora da sempre e non ha mai smesso gli spazzini le commesse i farmacisti su quelli non si interviene Barbano e poi una domanda per la Gallavotti ma io credo che noi dobbiamo scegliere in base al pericolo di vita perché è quella la bussola quindi quando anche sento vacciniamo questa categoria piuttosto che quest'altra io credo che dobbiamo e mi pare che sia stata finora questa la bussola del governo anche del precedente che ha fatto una marea di errori ma ha sempre privilegiato la difesa della vita cioè le persone che hanno più probabilità di morte ora con riferimento a quello che diceva prima la professoressa io vorrei che neanche ci innamorassimo troppo dell'emergenza mi consenta perché per carità siamo di fronte a una pandemia che ha prodotto gli effetti che ha prodotto però possiamo anche fronteggiarla allora quante sono mi perdoni le persone non vulnerabili e sotto i 60 anni che hanno avuto danni permanenti dal virus o morte una percentuale che è comparabile con quella di polmoniti di altre patologie non e beh sì mi porti dei dati ufficiali allora io non vorrei che questa purtroppo diciamo tentazione dell'emergenzialismo diventasse il nostro paradigma esistenziale perché la Gran Bretagna ha dimostrato con una mortalità enorme di gestire una situazione emergenziale e di riaprire al mondo alla vita la risposta di Gallavotti voleva intervenire anche con l'otto loro insieme sono in lockdown fino a pochissimo tempo fa sono in lockdown perché avevano 1200 morti adesso con 300 morti stanno programmando le riaperture ma non l'hanno ancora fatta non sappiamo ancora sono d'accordo però quanti sono i giovani che hanno danni permanenti da covid e quanti sono le persone adulte non vulnerabili che subiscono un danno da covid in percentuale che debilita la loro esistenza allora dice Barbano è vero che le malattie uccidono però ce ne sono tante perché il covid ha questa attenzione da parte di tutta la nazione perché ci sono tante malattie che provocano 200-300 morti al giorno perché sul covid si blocca il paese la risposta è Barbara Gallavotti intanto se vediamo i dati Istat vediamo una crescita della mortalità in corrispondenza con i picchi dell'ondata di covid in tutte le fasce di età ma poi soprattutto non capisco qual è l'alternativa perché se l'idea è proteggiamo quelli che sono fragili e facciamo circolare gli altri liberamente questo rischia di creare una quantità di contagi e di un livello di virus circolante così alto che poi inevitabilmente anche in quelle fasce di età ci sarebbero delle vittime lo vediamo all'estero dove si è deciso di far circolare il virus e poi c'è il problema delle varianti più il virus circola più possono emergere delle varianti quindi il punto nessuno si innamora dell'emergenza non vediamo l'ora che finisca credo tutti però il punto è cercare di tornare a una vita il più possibile normale e il più possibile di sicurezza lei sa bene che ci si innamora delle emergenze come purtroppo ci si innamora delle catastrofi e io riscontro un clima culturale nel paese che è abbarbicato a questa emergenza prima un vivere l'inglesi che sono diciamo molto più pragmatici da questo punto di vista hanno gestito dopo 100 mila morti sono più pragmatici ma di cosa stiamo parlando non è pragmatismo vogliamo parlare poi tra l'altro scusate ma anche dei tagli dalla sanità perché sembra che l'emergenza sia caduta dal cielo intanto non è stata gestita in tutti i paesi nello stesso modo questa situazione di emergenza in Italia sì e in tutto il modello occidentale dopo un anno siamo ancora in emergenza però anche per le politiche negli ultimi 30 anni perché mi sembra che tra l'altro il tema sicuramente ora è una priorità vaccinare tutti e impedire la circolazione del virus per salvare e proteggere la vita delle persone però dall'altra parte c'è anche la questione che il frutto il tema della sanità degli investimenti pubblici di togliere gli investimenti privati per quanto riguarda i vaccini per quanto riguarda i brevetti per quanto riguarda tutto il comparto della sanità pubblica siamo nell'emergenza perché abbiamo gestito malissimo la pandemia nella prima fase i medici di base giustamente sono arrivati adesso nella pandemia perché per un anno purtroppo noi abbiamo avuto una gestione ospedalizzante della pandemia nessuna medicina di base abbiamo fatto pochi tamponi non abbiamo avuto un coordinamento dell'offerta clinica abbiamo incendiato l'RSA cioè abbiamo commesso una catena di errori per i quali abbiamo 95 mila morti perché è un momento dell'analisi allora i risultati di quello che è stato non sono molto differenti da chi aveva invece altre strutture altre sanità altre cose l'etalità italiana scusami Giovanni non ce l'ha nessun paese al mondo abbiamo il 3,4% nella stessa situazione o no dottoressa Gallavotti alla grandi linee ma sì abbastanza il problema è che nessuno era veramente preparato a qualcosa che non si era mai verificato nella nostra storia dall'epoca della spagnola mi dice una cosa perché le varianti ci fanno tanto paura in fondo quando il morbillo il vaccino è uno poi quello che succede succede perché noi abbiamo paura che il vaccino non copra più le varianti intanto ogni virus si comporta un po' a modo suo il vaccino il morbillo è vero è un vaccino uno ma grazie proprio alle vaccinazioni che sono state fatte adesso quel virus lì circola per fortuna molto meno del nuovo coronavirus che ha fatto 112 milioni di casi fino adesso e poi forse è anche un vaccino diverso è un vaccino che è basato su un virus trattato in maniera tale da non essere più pericoloso quindi la persona vaccinata si somministra un virus intero e forse il sistema immunitario impara ad attaccarlo da tanti punti di vista diversi non è detto che sia così è una possibilità in questo caso ci sono comunque vaccini che sono in corso di sviluppo e che si basano su virus messi in condizioni di non muocere uno è Sinovac quello cinese che però finora non sembra dare grandi risultati ne arriveranno altri cosa dicono gli scienziati ce ne libereremo mai del virus ma insomma l'ha chiesto Nature a oltre 100 persone specializzate a studiare il covid come immunologi epidemiologi e così via i risultati non sono stati incoraggianti quasi 9 su 10 pensano che il virus è qui con noi per restare resterà endemico continuano a circolare in qualche parte del mondo peggio ancora più della metà pensa che non ce ne libereremo neanche localmente e tirano fuori diverse motivazioni la prima è che il virus appunto potrebbe mutare ed evadere alle nostre difese anche ai nostri vaccini oppure l'immunità potrebbe durare troppo poco oppure potremmo non essere capaci di organizzare a livello planetario una campagna di vaccinazione adeguata o ancora l'opposizione ai vaccini ultima causa mancanza di volontà politica ma ultima causa il problema di serbatoi animali questo è un punto molto interessante perché il virus ci è arrivato dalla natura ma poi adesso sembra circolare sostanzialmente solo nella specie umana si possono ammalare gli animali sappiamo che si possono ammalare per esempio i felini si possono ammalare i visoni di allevamento si sono ammalate delle scimmie dei gorilla negli zoo ora se da questi ambienti che sono sotto controllo il virus uscisse andasse nell'ambiente selvatico beh da lì ci potrebbe sempre ritornare e non ce ne libereremo mai più e c'è anche il problema diciamo l'identità di questo virus quello che abbiamo imparato a conoscere il fatto che su ognuno abbia degli effetti diversi è vero uno dei grandi misteri resta perché certe persone si ammalano con dei sintomi gravi e qualcuno passa la malattia in modo totalmente asintomatico intanto l'infezione inizia nello stesso modo più o meno in tutti all'inizio sia coloro che diventeranno sintomatici sia coloro che restano asintomatici hanno nel naso nella bocca quantità di virus paragonabili lo dicono i tamponi ma poi qualcuno riesce a impedire al virus di dilagare e non si sa bene perché forse sono persone che la natura ha dotato di meno porte di ingresso di ingresso al virus nelle loro cellule il virus possiede le chiavi false per entrare nelle cellule e costringerle a produrre tante copie di se stesso ma non queste persone non trova la serratura oppure può essere che sia la risposta immunitaria è nata quella prima linea di difesa contro qualsiasi agente infettivo non specializzata che in qualcuno funziona particolarmente bene e lì si sta studiando per esempio l'ospedale Bambi Gesù di Roma e l'università di Genova ha appena scoperto che quando una persona viene infettata da un virus si mobilitano in emergenza delle cellule staminali che sarebbero normalmente nel midollo osseo ma migrano nel sangue si moltiplicano e cominciano a produrre moltissime cellule che si chiamano natural killer vuol dire nate per uccidere sono nate per uccidere e identificare prima le cellule che sono state infettate dal virus e stanno producendo moltissimi nuovi agenti infettivi le cellule passate al nemico ed è fondamentale capire bene come funzionano questi meccanismi di difesa anche questi qui più di prima linea perché al momento attuale noi non disponiamo di vere cure contro il nuovo coronavirus l'unica cosa che possiamo fare è aiutare il nostro organismo a difendersi quindi quanto più conosciamo bene come l'organismo si difende tanto meglio lo possiamo aiutare piccola pausa per noi allora a mezzanotte e 4 Laura Gobetti ci sono notizie da Ciampino beh allora ovviamente vi confermo l'arrivo delle salme di Luca Attanasio e di Vittorio Iacovacci l'ambasciatore il carabiniere uccisi nell'attentato in Congo che sull'aereo erano presenti la moglie e le figlie dell'ambasciatore che vivevano con lui a Kinshasa ma anche familiari del carabiniere Vittorio Iacovacci partiti da Sonnino lui era originario di provincia di Latina e vi dico anche che domani ci sarà l'autopsia dei corpi all'ospedale Gemelli di Roma per cercare di fare ancora chiarezza ovviamente su questo attentato grazie Laura ci torneremo anche leggendo i giornali di oggi di stamattina e benvenuto Nando Pagnoncelli buonasera buonasera allora cosa abbiamo domandato agli italiani questa settimana ma innanzitutto abbiamo chiesto di esprimere una valutazione sui primi giorni del governo Draghi sappiamo essere un governo sostenuto da un consenso molto elevato guardiamo col cartello 1 il 55% ritiene che sia in linea con le proprie aspettative il 24% si aspettava qualcosa di meglio e qui ritornano un po' le considerazioni della scorsa settimana si aspettavano di meglio nella composizione dei ministri più tecnici e meno politici più parità di genere e così via 3% viceversa si aspettava di peggio poi abbiamo chiesto tenuto conto del fatto che il governo è sostenuto da un consenso elevato se è un consenso destinato ad aumentare o a diminuire lo vediamo con il cartello numero 2 il 44% pensa che sia destinato a scendere ma sono memori del fatto che molti governi erano partiti con una luna di miele con entusiasmo elevato da parte degli elettori e poi hanno subito come dire un contraccolpo mentre il 37% pensa che Mario Draghi avrà un consenso addirittura crescente nei prossimi mesi e poi abbiamo chiesto di esprimere una valutazione retrospettiva sul governo uscente sull'esperienza di Conte lo vediamo con il cartello numero 3 il 24% ritiene che sia stata un'esperienza migliore di quello che inizialmente era sembrato un 45% dice che non è stata né meglio né peggio delle proprie aspettative e il 22% invece ritiene che sia stata peggiore di quello che era sembrato inizialmente e poi abbiamo chiesto a proposito delle vaccinazioni cosa pensano appunto della fase nella quale stiamo vivendo sulle vaccinazioni in particolare lo vediamo con il cartello numero 5 vediamo che quasi un italiano su due ritiene che stiano procedendo con un ritmo possibile tenuto conto delle forniture che sono arrivate mentre il 43% è critico perché ritiene che stiano andando troppo troppo lentamente e poi abbiamo chiesto appunto a proposito di un'ipotesi di un lockdown preventivo a causa di nuove varianti del virus anche qui vedete delle risposte che si dividono tra gli italiani il cartello numero 6 il 48% non è d'accordo con l'istituzione di un nuovo lockdown ma il 41% sì è una percentuale molto elevata che sta a significare che aumenta il livello di preoccupazione a fronte delle diverse varianti del covid ma dobbiamo anche considerare che nel campione la componente adulta matura anziana è prevalente e non intervistiamo i minorenni che in questa fase mostrano una certa irriquietudine rispetto al lockdown ultimo cartello i politici e allora anche qui abbiamo chiesto quali tra questi leader tra questi chi le sembra che abbia come dire detto tutto il contrario di tutto e lo vediamo con il cartello 4 al primo posto c'è Matteo Renzi col 31% a seguire Matteo Salvini col 28% poi Di Maio col 12% e via via Zingaretti Meloni e Berlusconi con percentuali inferiori ovviamente le risposte tengono conto da un lato del merito ma dall'altro da quello che è il giudizio la simpatia o l'antipatia dei singoli leader che abbiamo considerato grazie Nando e diamo il buonasera e benvenuta Ersilia Vaudo buonasera astrofisica lavora all'ESAC l'agenzia spaziale europea da anni ora è l'ufficio per la diversità e l'inclusione sotto il suo controllo senta partiamo da Marte abbiamo visto queste immagini pazzesche immagini spettacolari le stiamo vedendo anche adesso allora una conquista importante perché? Allora innanzitutto abbiamo sicuramente assistito a questo spettacolare ammartaggio di Perseverance la scorsa settimana o qualche giorno fa è stata tutta un periodo questi ultimi giorni di vita su Marte in un certo senso se lo vogliamo dire così è arrivata la prima sonda araba degli Emirati quindi una cosa che effettivamente ha portato un'enorme visibilità anche a un paese che non fa parte dei soliti è arrivata la prima missione interplanetaria cinese Tianwen che anche metterà un rover quindi ammarterà più o meno verso maggio e giugno e poi appunto Perseverance la straordinarietà ecco perché perché uno sogna dice che è bello siamo arrivati su Marte ma avrà anche delle conseguenze pratiche immagino assolutamente andiamo su Marte per tre motivi il primo per capire meglio come è nata la vita e quali sono stati i meccanismi per capire l'evoluzione del pianeta e anche per preparare a future missioni umane perché presumiamo che ci sia stata la vita o perché presumiamo che ci sarà la cosa interessante di Marte è che Marte per un lungo periodo è stato un po' come era la Terra all'inizio della sua formazione quindi c'era acqua c'era in abbondanza era più caldo c'era un'atmosfera molto più spessa quindi quelle tre fasi di cui abbiamo diciamo di cui godiamo noi sulla Terra cosa è successo perché è saltato questo equilibrio ci interessa moltissimo e anche capire se non ci sono quindi state delle condizioni che hanno comunque permesso il nascere l'esistenza di vita a livello microbico diciamo però il mistero della nascita della vita dell'universo è uno dei grandissimi misteri e cominciare da Marte è uno dei modi più concreti per riuscire a svelarne il mistero questo è il primo motivo poi ci sono anche delle ragioni di qualcosa di cui possiamo approfittare immediatamente da queste beh innanzitutto ci tengo a dire che una delle grandi questioni con cui ci confrontiamo noi diciamo che siamo nello spazio è perché si spendono dei soldi per andare nello spazio quando ci sono tante la volevamo arrivare esattamente allora insomma appunto è una questione che è inerente alla nostra attività perché c'è una percezione sempre di grandi budget le posso dire che il budget che va all'esplorazione all'ESA quindi comunque stazione spaziale luna e Marte parliamo di 1,20 euro per cittadino europeo annuale e di questo quindi oltretutto di questo euro e 20 3 euro ritornano nell'economia e una parte anche in tasse che vengono poi diciamo recuperate quindi è un ottimo investimento sempre noi l'abbiamo chiamata anche per ragionare sul ruolo importante che ha avuto la scienza nell'ultimo anno per tutti noi eravamo abituati a ragionare anche in termini molto più emotivi di risposta sulla base di quello che sentivamo al momento adesso abbiamo scoperto che ci sono problemi davanti ai quali bisogna studiare e che studiare vuol dire anche sbagliare assolutamente devo dire interessante questa forse è stata la prima volta che abbiamo vissuto tutti una vulnerabilità collettiva e simultanea non era mai successo e possiamo dire che in qualche modo la scienza è tornata al centro la scienza è tornata al centro perché le competenze hanno fatto la differenza perché comunque c'è stato anche un linguaggio scientifico e tecnico più diffuso ormai tutti siamo più o meno abbiamo una familiarità con le crescite esponenziali probabilità percentuali questo anche è un risultato su cui comunque sarebbe bene capitalizzare però una scienza indispensabile per capire la pandemia e come in qualche modo un vaccino una scienza utile le mascherine e le clorine è una scienza che impara quindi una scienza che sa dubitare che mette intenzioni e prospettive diverse e quindi un approccio alla scienza che non è più monolitico però c'è anche l'urgenza la scienza deve sbrigarsi lo scienziato ha sbagliato dicono tutto il contrario di tutto questo come viene vissuto dall'altra parte della barricata dagli scienziati la scienza ha anche avuto un cambiamento c'è stata comunque una grossa pressione anche in un certo senso politica ad avere dei risultati quindi abbiamo avuto un grande spostamento di attenzione degli scienziati su diciamo le materie in questione c'è stata una disseminazione dei dati rapidissima cooperazione internazionale le barriere tra le discipline anche si sono c'è stata molta più interdisciplinarità quindi questo ha comunque permesso l'economist diceva una creazione torrenziale di scienza c'è stata in effetti è vero c'è stata una produzione che in qualche modo ha accelerato un processo che già esisteva prima verso l'open science i preprints appunto la disseminazione quindi è sicuramente una consuetudine che manterremo quindi una scienza più agile chiaramente una scienza anche fatta che si trova sempre davanti delle cose nuove delle cose da capire e quindi appunto che a volte può sembrare contraddizione ma è la natura stessa dell'andare dove non si è ancora stati eppure una scienza in mano degli esseri umani magari abituati a stare chiusi in un laboratorio che vengono poi invece lanciati sulle riviste sui giornali in televisione in qualche misura hanno reagito anche gli scienziati a questo nuovo periodo e come? beh c'è stata una visibilità ripeto una visibilità più forte degli scienziati da cui in qualche modo si pretendevano risposte c'è stata un'inedita prossimità politica scienza non lo dimentichiamo un tiro alla fune quasi sì un tiro alla fune una prossimità che secondo me è stata estremamente interessante perché anzi spero che sia una prossimità che poi diventi una relazione cioè la scienza che serve per avere e basare delle decisioni su dei fatti quindi vediamo anche diciamo questioni legate ai negazionisti insomma quello che ha all'irrigione degli esperti invece una scienza che serve per prendere decisioni che serve per monitorare i risultati per mitigare i rischi e per anticipare questioni future quindi questo scambio è uno scambio che spero rimarrà virtuoso e continuerà anche dopo la crisi non solo per quanto riguarda la salute si ricorda qualche anno fa c'era lo scienziato era il professorone che parlava di teoria mentre la realtà richiedeva ad altro adesso invece si respira area di scienza di necessità di tecnica pure nella politica pure nelle questioni economiche e sociali assolutamente sicuramente abbiamo diciamo la pandemia ha aperto ancora di più la ferita delle disuguaglianze questo è chiaro e soprattutto diciamo quelle disuguaglianze abbiamo sappiamo che ci sono ancora più disoccupati laureati sotto i 34 anni la questione delle donne si pagano più deboli sono soprattutto i soliti che pagano giovani donne e disagio sociale ma c'è un aspetto che è importantissimo secondo me e cioè l'accresciuto divario della povertà educativa noi già in Italia perché comunque la pandemia la scuola a distanza ha creato ha fatto evaporare in un certo senso una quantità di conoscenza che invece avremmo soprattutto nei piccoli e nei elementari perché è più difficile fare la DAD e studiare a distanza e noi avevamo già una situazione molto delicata in Italia prima di questa pandemia avevamo il più grande divario di genere nelle competenze matematiche dei paesi OX cioè dopo di noi solo Columbia e Costa Rica avevamo un divario in matematica che rifletteva tutte le disuguaglianze italiane territoriali nord-sud di genere ma anche socio-economiche con una sorta di determinismo sociale cioè se vieni da famiglie disagiate sarai sempre fuori dalla matematica quindi perché è grave è grave perché la matematica in un paese dove le disuguaglianze aumentano l'ascensore sociale non è neanche più fermo ma è in discesa la matematica è quello che io chiamo un abilitatore di futuro è un linguaggio è un fattore di stima in se stessi è uno sguardo sul mondo ed è anche la possibilità di far parte domani di quel perimetro di competenze in cui si immagina e si rende possibile il futuro le competenze scientifiche la matematica cos'è? un tentativo di dare un ordine al mondo che ci circonda il tentativo di riconoscere l'ordine che il mondo ha allora le rispondo diciamo centrando ma spostando un attimo nel 2017 la Francia ha dichiarato la matematica emergenza nazionale perché c'erano dei risultati in discesa chiaro che in Francia la matematica ha un valore simbolico molto alto però un'emergenza nazionale non solo perché un paese debole in matematica sarà anche un paese debole economicamente rischia di essere un paese debole economicamente ma perché mettevano a fuoco il fatto che chi resta fuori dalla matematica tende ad avere una fiducia in se stesso indebolita tenderà a esercitare meno bene i suoi diritti di cittadino per esempio a delegare ragionamenti complessi tendere alla semplificazione irridere gli esperti quindi il punto in questione è la democrazia è una cura la matematica ha un valore strategico molto forte ed è anche poi abbiamo visto in questo periodo questa capacità di saper navigare tra fatti e percezioni di saper riconoscere la manipolazione del numero non per fare i matematici non per fare i fisici si può fare anche i poeti e gli scultori ma resta un'alfabetizzazione che ci permette di essere anche cittadini consapevoli più consapevoli e quindi rendere la democrazia più sostenibile e più forte quindi è un linguaggio un alfabeto che ci permette di capire la complessità della matematica fondamentalmente impariamo l'italiano perché è il linguaggio del nostro paese l'inglese è il linguaggio del mondo la matematica è il linguaggio dell'universo e quindi della natura del mondo che ci circonda ed è il linguaggio delle materie STEM scienza tecnologia ingegneria e matematica che sappiamo che saranno le competenze più richieste nei lavori del futuro dove ci sarà più alto tasso occupazionale crescite salariali ripeto anche la possibilità opportunità di vita opportunità di vita però da noi rimangono gli studi concettuali quelli più gli studi classici quelli più che hanno maggior credito come mai? noi abbiamo una cultura umanistica fortissima e ci tengo a dirlo non è un cioè non c'è nessuno ma sono più troppo difficili per noi cioè la matematica è difficile la matematica è difficile ma esiste adesso sta nascendo questa disciplina della neuroeducazione cioè l'istruzione l'educare non può prescindere dalla comprensione della mente che vuole educare quindi in realtà nasciamo tutti con lo stesso senso dei numeri e le difficoltà o meno dipenderanno dall'amore e dalla diffidenza che l'ambiente intorno a noi familiare o scolastico creerà quindi bisogna lavorare quando diceva noi abbiamo una cultura di tratto umanistico no volevo dire questo che io ho fatto fisica ho avuto tantissimi insegnanti compagni di viaggio venivano dal classico brevissimi perché poi insomma sappiamo che quella forma mentale è molto vicina alla forma matematica l'importanza della matematica non è per poi diventare noi abbiamo un sistema scolastico poi molto democratico mentre negli altri paesi se non si è bravo in matematica già dalle medie non potrei mai fare certe materie restare dentro la matematica significa poter scegliere e la cosa più importante è dare modo ai ragazzi di scegliere cosa si vuole essere immaginare la differenza rispetto a quello che si è fondamentale le dico un paradosso che esiste sulla questione anche della scarsità di ragazze nelle materie STEM nei paesi a più grande uguaglianza di genere per esempio i paesi nordici c'è il minor numero di ragazze che scelgono queste materie mentre c'è un grandissimo numero in paesi come Turchia Tunisia Algeria Emirati proprio perché viene riconosciuto questa possibilità di un percorso di indipendenza di emancipazione molto forte quindi l'importante è poter scegliere sognarsi anche molto diversi da quello che è sognare l'impossibile siamo partiti da Marte ma è vero che voi cercate astronauti all'ESA? Sì tra le grandi emozioni della settimana scorsa c'è stato anche il lancio della campagna astronauti dell'ESA che dopo 11 anni quindi dopo la scorsa selezione dove abbiamo selezionato Luca Parmitano e Samantha Cristoforetti si apre una nuova avventura spaziale abbiamo bisogno di cominciare già a preparare gli astronauti di domani vogliamo avere una molta più grande diversità le ragazze le donne che diciamo si proiettano come astronauti sono ancora troppo poche la scorsa selezione era una su sei speriamo di avere molte più ragazze una narrativa che non è più una narrativa di conquista e di corse l'una contro l'altra ma proprio di portare anche i valori europei dell'inclusione della conoscenza della cura del pianeta della passione dell'esplorazione che sembra un po' datata come esperienza cioè perché dovremmo ancora avere voglia di fare l'astronauta lei ha detto bisogna riattivare il senso dello stupore sì l'astronauta allora penso che comunque sia poter avere un'opportunità di cambiare prospettiva per un attimo e guardare noi stessi da lontano è comunque un'esperanza che ci trasforma si trasforma anche noi che passivamente guardiamo le immagini che ci mandano gli astronauti questa consapevolezza sempre di cosa siamo in questo universo è comunque una scintilla in un universo indifferente in fondo su questa navicella spaziale che è il nostro pianeta e che ci porta in giro l'unica casa che abbiamo mai avuto come diceva Sagan è qualcosa che è ancora secondo me più importante ora a coltivare e gli astronauti rappresentano questa proiezione che noi abbiamo oltre i confini del nostro pianeta ma lei pensa che ci sia vita nell'universo? esiste la vita extraterrestre? come il valore economico questa è un'altra questione con cui ci confrontiamo spesso sappiamo ora abbiamo visto quindi migliaia di pianeti intorno a stelle un po' come il nostro sistema solare sappiamo che l'estrapolazione ci sono milioni quindi probabilisticamente sì pensare che antropocentricamente che tutto questo è fatto solo per noi è meno probabile piuttosto che il problema è riuscire a quindi è probabile oltretutto quando mandiamo messaggi per vedere se c'è vita intelligente come parliamo parliamo la matematica mandiamo il pi greco per esempio perché qualsiasi intelligenza come la nostra deve aver fatto lo scientifico si è confrontato con una circonferenza parliamo matematica con i marziani però sì la probabilità è alta riuscire a entrare in contatto è una probabilità più remota è meno facile grazie Erzilia Vaudo diamo il bentornato a Tommaso Montanari buonasera insegna storia dell'arte moderna all'università per stranieri di Siena in libreria con la seconda ora d'arte per Einaudi e diamo il benvenuto a Gerardo Colombo buonasera ben tornato magistrato tutti lo conoscete ha pubblicato un bel dialogo con Liliana Segrin e il suo ultimo libro è La sola colpa di essere nati edito da Garzanti con voi stasera faremo un viaggio nella memoria e nell'arte però partendo dall'attualità dalla cronaca di questi giorni e dottor Colombo partiamo da lei nel suo libro scritto a quattro mani con Liliana Segrin ha ripercorso la storia e la vita della senatrice e proprio in questi giorni dopo aver ricevuto la prima dose di vaccino contro il covid la Segrin è stata ricoperta da insulti perché secondo lei? Ma è una cosa veramente per me incomprensibile come si faccia a insultare una persona che ha vissuto una vita così tragica quando era bambina e che poi ha dovuto fare tanta fatica per recuperare la relazione con gli altri provi lei a vivere in un campo di sterminio per un anno lo provo potrei immaginarmi e provarlo io che difficoltà sia nel ritornare alla relazione normale con tutti gli altri perché ma io credo che secondo me io temo che si tratti di persone che abbiano bisogno di cura semplicemente io credo di sì perché altrimenti come si fa a spiegare? Professor Montanari è una sorta di riflesso incondizionato che arriva nel momento in cui si nota una differenza un qualcosa che non torna al proprio calcolo è un tratto del nostro paese ormai? Io credo che i fascismi non siano morti non ci dobbiamo aspettare un ritorno del fascismo in camicia nera c'è anche quello ma c'è la capacità di quella stagione di quei simboli di quel modo di pensare di catalizzare ferocia infelicità vorrei dire solitudine bisognerebbe riflettere molto sul fatto che prendono questa forma sentimenti collettivi che ci parlano di un paese che non ha investito abbastanza in cultura e in scuola c'è un enorme problema di scolarizzazione secondo l'Ista il 47-8% degli italiani sono analfabeti funzionali cioè se gli dai un testo non sanno dirti esattamente cosa c'è scritto c'è un rapporto fra infelicità di massa ignoranza e ritorno dei fascismi io credo che ci sia a prescindere dottor Colombo anche dal colore politico perché anche l'episodio degli insulti a Giorgia Meloni è corrente assolutamente 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 io credo poi che sia necessario riuscire a interrompere queste catene perché cosa succede nel nostro paese che generalmente all'odio si risponde con l'odio e allora le cose si moltiplicano le negatività si moltiplicano è necessario invece rispondere come ha fatto Liliana Segre quando poco prima della liberazione il capo quello che controllava il campo è scappato si è messo in borghese perché arrivavano gli alleati ha lasciato lì la pistola è venuto per un momento così la tentazione è venuta di prenderla e di sparargli e poi ha detto no perché altrimenti mi riduco come lui allora noi abbiamo trovato molti punti di consonanza tra i vostri due lavori li percorreremo attraverso le opere d'arte che il professor Montanari ha selezionato guardate allora iniziamo professore dalla foto della pietà di Michelangelo appesa nella stanza proprio dove si nascose Anna Frank prima della deportazione se ne parla Simone Veil diceva un'altra grande donna ebrea diceva che un capolavoro è un'opera che puoi tenere nella tua stanza immaginando di essere recluso per sempre in quella stanza un capolavoro è qualcosa che non ti rende quella reclusione più penosa ma ti permette di sopportarla Anna Frank che a 14 anni voleva vivere per sempre attraverso la scrittura attacca al muro via via che cresce sostituendo le foto delle star il volto del Cristo della pietà di Michelangelo l'opera in cui secondo Giorgio Vasari Michelangelo aveva messo tutto il potere dell'arte ecco il potere dell'arte è il potere di farci evadere di darci una prospettiva di resurrezione di resistenza e di permetterci di vivere la vita anche nelle peggiori condizioni possibili quelle che i nazisti avevano imposto ad Anna Frank e alla sua famiglia e vedere ancora lì quell'immagine è un monito molto forte ci dice che forse anche noi abbiamo bisogno di arte Virginia Wolf diceva se capissimo l'arte davvero faremmo l'arte e non la guerra dottor Colombo lei come direbbe a chi si avvicina al suo libro come spiegherebbe chi è Liliana Segre beh insomma ci vorrebbero un po' di parole l'estrema semplificazione sarebbe che si tratta di una donna veramente eccezionale la sua storia cosa dice qual è la sua storia la sua storia è una storia lunga credo che si possa ha fatto un libro c'è il libro c'è la sua colpa di essere nati di essere nati la sua storia è che lei a otto anni viene espulsa dalla scuola perché arriva la prima legge razza e da allora comincia questa tragedia che vuol dire l'espulsione progressiva anche un pochino da tutto dalle amicizie dalle compagnie dall'essere insieme agli altri e poi doversi rifugiare in Brianza in Verigo perché ormai in Milano diventa poco praticabile e poi questo tentativo di ottenere rifugio in Svizzera da dove viene anche lì espulsa viene arrestata al confine con l'Italia viene portata a San Vittore con suo padre e dopo un po' avviata al campo di stermine di affis e quando parte ne va a 13 Professor Montanari arriviamo al dolore di fronte al quale diciamo ci può essere compassione ma anche purtroppo indifferenza con quale opera affronta e illustra questi sentimenti? è un'opera attribuita al giovane Dürer questo grandissimo artista tedesco che entra in dialogo con la più arte italiana ci dimentichiamo spesso che siamo europei prima che nelle banche nella nostra storia culturale nella nostra storia artistica è indivisibile sappiamo cosa è venuto dalla Germania nel novecento ricordiamoci quello che è venuto anche prima però è venuto Dürer c'è una complessità della nostra storia questo uomo dei dolori è un Cristo chiuso nel sepolcro prima della resurrezione del tutto impotente sembra che non sappia nemmeno lui se davvero risorgerà se vincerà tutto quel dolore e in quell'impotenza c'è il ritratto della nostra impotenza come siamo stati per tanti versi specialmente all'inizio durante questa pandemia e però guardando questo quadro sentiamo forte la compassione che letteralmente vuol dire patire insieme soffrire insieme la passione di Cristo che diventa immagine della passione di tutti gli uomini che soffrono è un modo di stare insieme una delle cose che forse dovremmo riuscire a fare attraverso questa pandemia che ci ha confinato nei nostri spazi privati nelle nostre case che ci ha tolto lo spazio pubblico è ricordarci che come diceva Don Milani la politica è sortirne insieme è avarizia sortirne da soli questo è il punto compatire cioè non diventare più cattivi ancora non diventare ancora più uno contro l'altro ma pensare che questa compassione sia la strada dalla strada vera per uscirne noi non io e dottor Colombo uno dei temi che trattate lei e Liliana Segre in La sola colpa di essere nati è proprio l'indifferenza davanti a cui si consumò la tragedia dell'olocausto davanti alle persone è stata l'indifferenza che ha consentito che le leggi razziali venissero attuate venissero seguite perché io credo che insomma una fretta secondo me consistente di italiani le leggi razziali le abbia condivise perché se non fossero state condivise da tanti ebbè non sarebbero state applicate sarebbe successo come è successo in Danimarca dove non sono state applicate invece qui sì però ci sono state anche tante persone che sono state indifferenti che si sono tirate fuori e l'indifferenza io dico l'indifferenza non gli indifferenti perché non bisogna poi far coincidere il male con la persona che invece è recuperabile è recuperabile e l'indifferenza è quella che consente di arrivare la contingente di quel momento non travolge la persona esatto esatto bisogna stare attenti su questo perché sennò nessuno può essere siamo tutti colpevoli per una volta nella vita esattamente ecco questa indifferenza è quel che permette che certe cose terribili succeda ad esempio siamo colpevoli professor Montanari di fronte spesso di fronte al dolore delle tragedie del mare degli immigrati che non riescono a raggiungere il nostro paese anche su questo lei ha scelto un'opera sì intanto se posso aggiungere una cosa è verissimo che c'è l'indifferenza bisogna distinguere dagli indifferenti credo anche che non dobbiamo dimenticare le responsabilità personali a me fa molto effetto che città italiane dedichino delle strade a Giorgio Almirante che era stato segretario di redazione della difesa della razza io credo che certe cose dovremmo ricordarle non possiamo additare come eroi civili coloro che hanno avuto delle così gravi responsabilità che non vuol dire che ognuno si può redimere però le responsabilità storiche non vanno dimenticate quanto agli stranieri io ho scelto un mosaico del sesto secolo di Ravenna in cui si vede Abramo che accoglie tre stranieri e li mette a tavola e li serve secondo la tradizione sono le tre persone della Santissima Trinità lo straniero è Dio e nella Bibbia nell'Evitico si dice lo straniero che abiti con voi sarà per voi come un cittadino amerai per lui quello che ami per te perché anche voi siete stati stranieri nella terra d'Egitto ora gli italiani hanno molte ragioni di ricordarsi quando sono stati stranieri quando sono stati emigranti e per di più siamo tutti stranieri su questa terra in qualche modo allora io credo che ora è passata un po' in secondo piano abbiamo ricominciato a distinguere tra migranti economici rifugiati io credo che dobbiamo capire che l'unica dimensione futura sia una dimensione di umanità gli stati nazionali sono stati alla radice di molti lutti e di molte guerre c'è modo di riscoprire che prima viene l'uomo che prima viene la nostra comune umanità la storia dell'arte ci parla di questo come la nostra grande tradizione culturale se lo straniero è Dio se lo straniero presso di te sarà come un cittadino Gesù dice non hai accolto me quando non hai accolto lo straniero vuol dire che c'è qualcosa nella profondità della nostra storia che ci parla di questo e forse è questo uno dei traguardi che abbiamo davanti come crescita diciamo collettiva Dottor Colombo lei ci raccontava poco fa di come Lina Segre avesse iniziato a sentirsi straniera in patria con le leggi razziali certo lei era richiedente asilo quando ha cercato di emigrare perché si trattava proprio di fuggire dall'Italia cercando di andare in Svizzera e poi lei si è sentita straniera anche in patria perché dopo essere tornata dal campo di sterminio di Auschwitz dalla marcia della morte e dagli ultimi periodi in Germania e beh non veniva più riconosciuta era lei di essersi inselvatichita era diventata selvaggia perché lì c'era da riuscire a sopravvivere senza cibo erano delle condizioni incredibili ma veramente incredibili non riconosceva più la civiltà in cui era cresciuta la civiltà in cui era cresciuta non riconosceva più lei come persona anche chi le stava vicino suo zio con il quale aveva rapporto l'ha accolta in casa però l'ha accolta con questa diffidenza tenendola lontano proprio perché non era più come lui si immaginava che dovesse essere avendola vista prima di essere stata ad Auschwitz il tema dell'identità professor Montanari abbiamo detto anche il tema dell'immigrazione ne esce fuori il tema dell'identità nazionale che è un valore anche positivo molto positivo ma che spesso viene utilizzato per coprire delle paure o delle immagini ideologiche lei ha scelto un'immagine del presepe perché? L'identità per la nostra Costituzione è la cultura l'unico dei principi fondamentali dei 12 principi fondamentali della Costituzione in cui ci sia la parola nazione è l'articolo 9 in cui si parla di cultura di paesaggio e di patrimonio storico e artistico non si parla di purezza di sangue di razza di lingua di religione il presepe è il segno di una estrema umiltà siamo vicini alla terra letteralmente l'humus la terra Francesco mette un vero bambino un asinello in carne ed ossa e fa convergere gli sguardi verso chi è disarmato i bambini la piccolezza ora è fatto che simboli religiosi come siamo nella basilica di Assisi siamo davanti a Giotto e vediamo questa strepitosa visione di un grande crocifisso di legno in prospettico lo vediamo da dietro e vediamo che è un oggetto di legno con tutta la sua carpenteria ecco quando i simboli religiosi si riducono ad oggetti quando il presepe diventa un simbolo di divisione di odio quando il rosario viene brandito come un'arma questi segni di apertura di umiltà di semplicità di vicinanza al mondo dell'infanzia vengono pervertiti nel loro contrario vengono strumentalizzati direi oscenamente bisogna stare molto attenti a per esempio a non imporre i presepi di stato ci sono la regione Lombardia l'ultimo anno ha stanziato 50 mila euro per fare i presepi la regione Piemonte ha chiesto alle scuole di farlo in tutte le scuole con una circolare ci sono italiani da sempre che sono ebrei ci sono nuovi italiani che sono musulmani la laicità dello stato è un valore fondamentale perché ci dice che tutti siamo uguali c'è l'articolo 3 nella nostra costituzione è una famosa sentenza della corte costituzionale ha detto che la laicità è il valore supremo del nostro stare insieme dunque se davvero amiamo il presepi amiamo nello spirito autentico quello di una vera umiltà di essere completamente disarmati se il presepi diventa un'arma diventa esattamente il suo contrario Dottor Colombo l'articolo 3 parla solo agli italiani o parla a tutti? Parla a tutti noi troviamo la parola cittadini tutte le persone vuol dire tutti i cittadini hanno pari dignità sociale tanto che questa coincidenza tra cittadino e persona poi si esplica negli altri articoli l'articolo che precede dice che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo non del cittadino andiamo all'articolo 32 facciamo un po' di passi la Repubblica tutela la salute di tutti non dei cittadini e la scuola l'articolo 34 è aperta a tutti e la libertà personale è inviolabile non per i cittadini perché non lo precisa è così il domicilio è così la corrispondenza eccetera 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 c'è una cosa in cui si differenziano veramente i cittadini e gli stranieri è l'articolo che parla del voto e lì io ancora non riesco a capire perché chi ha scritto la Costituzione non ha pensato che gli stranieri che vivono in Italia e le tasse le pagano e pagano le tasse però non possono scegliere coloro che le tasse le risorse che arrivano dalle tasse amministreranno questo secondo me è un mistero c'è rappresentanza quello da sempre è un mistero che si spiega col fatto che allora di stranieri in Italia ne vivevano praticamente nessuno la spiegazione della storia il professor Montanari chi non ha diritti non ha tutelle e quindi rischia di essere sfruttato e spesso lo è lei racconta la schiavitù in un quadro che ci ha mandato ecco lo vediamo sì è un quadro del 600 olandese che ci colpisce molto perché vediamo una casa all'interno di una casa casa nostra e in questa casa nostra nel cuore dell'Europa c'è un giovane schiavo nero milioni fra 12 e 20 milioni di neri furono portati nell'età moderna con le navi dalle coste africane all'America e in America lavoravano per produrre spesso beni per estrarre l'argento o nelle coltivazioni di tabacco che finivano poi in Cina in estremo oriente e nel quadro vediamo questo schiavetto nero che sorregge e versa l'acqua da una porcellana cinese cosa vuol dire questo quadro cosa ci ricorda che la globalizzazione una globalizzazione del denaro e della schiavitù l'abbiamo inventata noi molti secoli fa quando diciamo aiutiamoli a casa loro ci dimentichiamo che li abbiamo sradicati a milioni dalle loro case li abbiamo portati via dalle loro case e siamo noi che abbiamo reso il mondo un'unica grande casa e non l'abbiamo fatto in nome di fratellanza universale o dei diritti dell'uomo ma in nome del mercato e questa globalizzazione non è recente appunto è molto antica allora aiutarli a casa loro è la più ipocrita delle menzogne dobbiamo aiutarli ovunque ma la loro casa è il mondo e questo dovremmo cominciare a capirlo anche perché l'abbiamo fatto noi dottor Colombo come dovrebbe essere la nostra lei descrive una condizione di schiavitù in fondo con Liliana Segre perché lei disse in condizione di schiavitù lei lavorava proprio come come fosse una schiava e lo dice e lo ripete nel libro che lei era una schiava operaia che lavorava è entrata a 13 anni è uscita a 14 anni lavorava dalla mattina alla sera sempre tutti i giorni ovviamente senza sabato senza domenica senza ferie niente era una schiava era una schiava e io guardi se permette ancora mi chiedo ma come è possibile per tornare alla sua domanda iniziale ma come è possibile che si possa odiare una bambina che ha subito tanto non la riconosci esatto allora e vi portò alla luce in fondo al tunnel perché da tutto ciò dobbiamo in qualche modo uscire da un tratto di entrambi i vostri lavori allora professor Montanari il bisogno di giustizia di libertà ci porta a un bisogno fisico e attuale molto la riconquista dei nostri spazi e dei nostri movimenti anche dopo un anno di pandemia ha scelto Monet sì la libertà è un quadro che mi era venuto in mente durante le proibizioni del primo lockdown e mi sono mi è venuto in mente come penso a tanti di noi di stare sdraiato non sul divano di casa ma su un prato primaverile con il sole con le nuvole che passano con il cielo che si diventa più scuro e più chiaro e mi è venuto in mente ho pensato quale quadro può restituire questa idea e ho pensato a questo quadro di Monet che avevo visto Washington qualche tempo prima poi sono andato a vederne il titolo si chiama Passeggiata esattamente lo scuro oggetto del desiderio di tanti milioni di italiani quando non si poteva passeggiare è un quadro semplicissimo in cui Monet riesce però a mettere tutto il sapore tutto il profumo tutta la luce della vita l'arte serve anche a questo a ricordarci che possiamo liberarci attraverso questa dimensione una delle cose che i nostri musei la nostra politica culturale dovrebbe insegnare è che la soluzione non è il denaro che è naturalmente necessario ma la soluzione forse è la liberazione dai bisogni indotti l'arte non è la pubblicità la cultura non è il marketing non è lo storytelling l'arte è liberazione può liberarci addirittura dalle nostre costrizioni fisiche può permetterci di immaginarci nel sole e nel vento quando siamo chiusi in casa forse se ce lo ricordiamo riusciamo a vivere un po' meglio Liliana Segre se lo ricorda perché lei dice anzi è più giovane dice io vi ringrazio per questo sacrificio e per quanto sia incomparabile la mia esperienza con la vostra un tratto comune c'è ma indubbiamente indubbiamente è una persona estremamente sensibile Liliana Segre quindi si accorge e vede come i ragazzi oggi siano in grandissima difficoltà insomma bene o male gli si toglie un pezzo di vita che è tra l'altro un pezzo importantissimo siamo costretti magari insomma pensandoci un pochino di più forse si sarebbe riusciti a mitigare a rendere meno pesante però Liliana è molto molto attenta a tutto questo insomma lei ha vissuto una sofferenza tanto pesante da poter essere in sintonia da provare compassione nel senso che diceva il professor Montanari patire insieme soffrire insieme che poi secondo me è la base della solidarietà e va detto pure che è una persona estremamente simpatica ma veramente Gerardo Colombo e Liliana Segre la sola colpa di essere nati Tommaso Montanari la seconda ora d'arte grazie a entrambi per noi una piccola pausa e il giornale di domani con Laura Gobetti grazie a lei i giornali di domani Laura Gobetti allora partiamo con la notizia di questa sera una foto quella della partenza delle salme di Luca Attanasio e Vittorio Iacovacci l'ambasciatore e il carabiniere uccisi dall'attentato in Congo sono arrivate in Italia sono arrivate a Ciampino ad accoglierli c'era il presidente del consiglio Mario Draghi c'erano anche i ministri della difesa e degli esteri Guerini e Di Maio non c'era il presidente della repubblica per un leggero malessere non è potuto andare sul volo anche i familiari delle vittime la moglie le figlie dell'ambasciatore Attanasio e i parenti di Vittorio Iacovacci nelle prossime ore dovrebbe esserci l'autopsia delle salme e poi giovedì i funerali di stato poi le notizie invece sui giornali con il Corriere della Sera le notizie che riguardano ovviamente il virus in particolare le misure sul coronavirus nuove chiusure per le varianti perché le varianti dovrebbero diventare preponderanti queste sono le previsioni e allora intanto si chiude già domani zona arancione scuro in Lombardia 9 comuni del Bresciano più o meno e poi da giovedì anche in Emilia Romagna 14 comuni poi su Repubblica invece vaccini Draghi preme sull'Unione Europea perché perché i vaccini sono in ritardo AstraZeneca ancora stasera dice che nel secondo trimestre le forniture saranno ridotte del 50% e allora Draghi vuole insieme all'Unione Europea produrre i vaccini in casa quindi in Italia ma anche nei paesi dell'Unione Europea poi velocemente il sole 24 ore sempre su questa questione perché poi servono questi vaccini perché il piano evidentemente è un flop con le regioni divise diverse velocità da regione a regione per quanto riguarda AstraZeneca ha usato solo una fiala su 10 il giornale dice partendo proprio da queste considerazioni Arcuri avviso di sfratto ovviamente anche questa è una considerazione diciamo così dopo gli errori nella gestione della prima fase lo scandalo sull'acquisto dei mascherini cinesi Draghi ammette che potrebbe sostituirlo presto il fatto quotidiano chiudiamo con una questione politica il caso politico del momento il presidente 5 Stelle su Conte che stavolta è pronto prima di chiudere però vi do una notizia che è appena arrivata sono le parole di Di Maio che appunto come vi abbiamo detto all'inizio era a Ciampino ad accogliere le salme dell'ambasciatore del carabiniero uccisi in Congo ha detto onore ai servitori dello Stato grazie Laura allora non resta che ricordare che fino al 27 febbraio con sms o chiamata al 45586 potete sostenere la campagna di OBN on lus a favore dei neonati a rischio nati da madri affette da covid ci vediamo martedì alle alle a a a a a Grazie a tutti.